Ok, non vorrei dirtelo, ma le carote baby non esistono. Quelle carotine simpatiche che vendono al supermercato in realtà sono carote normali, tagliate così piccole apposta. Intuitivamente diresti che gli orsetti gommosi al gusto di fragola dovrebbero essere rossi o rosa, giusto? E invece no, sono verdi. Il riso integrale e il riso bianco sono lo stesso prodotto. La varietà bianca parte da quella marrone, alla quale vengono rimosse delle parti con la macinazione, che conferisce al riso quel colore bianco. Ciò consente di conservarlo più a lungo, ma allo stesso tempo ne riduce il valore nutritivo. E a proposito di riso, sapevi che è stato usato per costruire la grande muraglia cinese? Sì, per costruirla è stato usato un mix di zuppa di riso appiccicosa con lime, in sostanza una malta di riso. Questa malta era più forte e aveva una migliore resistenza all'acqua rispetto alla normale malta di calce. Grazie alla zuppa di riso, la grande muraglia ha saputo resistere per secoli, nonostante le intemperie. Hai trovato una barretta di cioccolato dimenticata da tempo da qualche parte sulla tua scrivania? Mmm, che bella sorpresa! Ma quando la apri, esiti un attimo. C'è una specie di strato di polvere dall'aspetto sgradevole. Non preoccuparti, però, è ancora buonissima. È solo il grasso o burro di cacao che si è separato dal cioccolato per l'effetto del calore e del successivo raffreddamento, creando questa pellicola biancastra. Il sapore magari è un po' insipido, quindi forse è meglio usarla per fare dei dolci. Credo che tu avresti molto più autocontrollo di me, però. Gli avocado non maturano se restano sull'albero. Se non vengono raccolti, cadranno dal ramo ancora acerbi. Una volta raccolti, però, diventeranno morbidi e saporiti, proprio come piacciono a noi. Questo accade a causa dell'esplosione di etilene prodotta dal frutto dopo la raccolta, inibita mentre l'avocado è ancora sull'albero. I pomodori del supermercato sono spesso insipidi, sì. Questo dipende da come sono coltivati e poi conservati. I pomodori vengono raccolti quando ancora non sono completamente maturi e poi maturano nei contenitori per il trasporto e sugli scaffali dei negozi. Ma se vengono conservati a temperature inferiori ai 4 gradi quando ancora non sono completamente maturi, perdono gran parte del loro sapore. Per mantenerli gustosi, è meglio conservarli fuori dal frigo. Il miele è probabilmente l'unico alimento che non va mai a male. Se adeguatamente sigillato, senza aria dentro, può durare millenni ed essere ancora commestibile. Il vasetto di miele più antico che abbiamo trovato aveva 5500 anni. Accanto alla mummia di Winnie the Pooh... Ah, ehm, non proprio. Ok, il cioccolato fondente e quello al latte sono chiaramente cioccolata, ma... Quello bianco? No, non è vera cioccolata perché non contiene cacao in polvere. La varietà bianca è composta da burro di cacao mescolato con zucchero e aromi, solitamente vaniglia. Le arachidi sono parenti più stretti dei piselli che della frutta secca. Sono legumi, proprio come piselli, ceci e fagioli. Nemmeno gli anacardi sono frutta secca, sono semi raccolti da frutti piuttosto grandi. Lo stesso si può dire di noci, mandorle, noci peccan e pistacchi. Quando compri degli involtini di sushi con polpa di granchio, in realtà non stai veramente comprando del granchio. Si tratta in realtà di un'imitazione, fondamentalmente una pasta di pesce chiamata anche surimi. E a proposito di sushi, originariamente si trattava di un modo per conservare il pesce. Veniva conservato nel riso fermentato, che poteva mantenere il pesce fresco fino a un anno. Dopodiché il riso si buttava, mentre il pesce si cuoceva e si mangiava. Per evitare di piangere quando tagli le cipolle, basta seguire qualche piccolo accorgimento. Uno di questi è mettere la cipolla in congelatore prima di tagliarla, così le molecole della sostanza chimica che fa piangere si congelano. Un altro metodo è lavare la cipolla in acqua fredda prima di tagliarla. Il freddo e l'umidità che rimangono sulla cipolla impediscono alla sostanza chimica di raggiungere i tuoi occhi. La terza opzione è mettere un tovagliolo di carta bagnato accanto al tagliere. Questa sostanza chimica, infatti, viene attratta dalla fonte d'acqua più vicina, che di solito sono gli occhi, mentre in questo caso sarà il tovagliolo. La stragrande maggioranza del wasabi che mangiamo non è vero wasabi. Quello vero è molto costoso, quindi quello che consumiamo di solito è un mix di rafano, senape e colorante alimentare verde. Fa attenzione quando mangi l'ananas fresco, perché potrebbe letteralmente mangiare te. Sì, perché contiene un enzima che digerisce le proteine. Hai presente quella sensazione di bruciore che provi quando hai mangiato troppo ananas? È per quello, sì. I maccheroni al formaggio erano un piatto davvero stravagante negli Stati Uniti nel XVIII secolo. La pasta poteva essere importata solo dall'Italia, quindi era costosa, e il processo di produzione del formaggio richiedeva tempo e fatica. Tutto ciò lo rendeva un piatto per niente economico. Solo i più ricchi potevano permetterselo e veniva servito nei ristoranti più chic come una vera e propria prelibatezza. Ostri, caragoste e praticamente qualsiasi altro pesce invece, al tempo erano considerati cibo per poveri. Sì, nei posti di mare ci si nutriva di ciò che il mare offriva, ovvero cozze, granchi e tanti altri cibi che oggi consideriamo prelibatezze. Wow, se mangiassi maccheroni al formaggio con aragosta mi esploderebbe la testa. Torniamo ai cibi pregiati. Nel Medioevo il pesce era considerato un dono degno di un re. I monarchi inglesi erano spesso rappresentati con degli enormi luci, e ancor prima nell'impero romano pesci come la triglia erano prelibatezze che gli imperatori pagavano con grandi quantità d'oro. La polpa dei salmoni di allevamento è grigia, quelli selvatici invece mangiando molti gamberetti diventano di quel caratteristico rosa-arancio. Quelli di allevamento vengono alimentati con un pigmento vegetale speciale per conferirgli lo stesso effetto. L'inventore della vasellina, Robert Cheesebrough, affermava di mangiare un cucchiaio di vasellina al giorno. Inoltre, quando si ammalò gravemente, chiese alla sua infermiera di ricoprirlo di vasellina dalla testa ai piedi. Ben presto si riprese e visse fino a 96 anni. Cheesebrough ha sempre creduto fermamente alle proprietà miracolose della vasellina, prodotto unto e appiccicoso. Le arance hanno dato il nome al colore arancione. In inglese antico, questo colore veniva chiamato più o meno giallo-rosso. Solo quando il frutto si diffuse in tutta Europa, apparve la parola che ne indicava il colore. Se vuoi dare un'occhiata più da vicino ad un alveare, assicurati di non avere con te una banana. Infatti, il feromone che allarma le api e le mette in guardia per proteggere i loro alveari odora di banana, quindi è probabile che ti percepiscano come un nemico se ti avvicini troppo. Un tempo esisteva anche una plastica a base di latte, il quale è biodegradabile, non solubile in acqua e praticamente non brucia. Ma in seguito è stata superata da quella a base d'olio, perché la varietà a base di latte non si poteva modellare e col tempo diventava molto fragile. Inoltre, produrre quella a base d'olio era molto meno costoso. La torta a quattro quarti deve il suo nome alla quantità dei suoi ingredienti. Originariamente si faceva con mezzo chilo di burro, mezzo chilo di uova e ha indovinato mezzo chilo di zucchero. Quindi doveva pesare un chilo e mezzo. La pizza più costosa che esista costa più di 12.000 euro. Possono cucinarla soltanto tre chef in casa tua e ci vorranno circa tre giorni per prepararla. Ma gli chef devono restare a casa tua? Nell'antico Egitto i lavoratori erano pagati con il cibo. Come salario ricevevano ravanelli, cipolle e aglio. Già allora queste piante erano note per le loro proprietà antibatteriche, il che le rendeva molto pregiate. Sebbene il colore più diffuso del cavolfiore sia il bianco, esistono anche cavolfiori nella varietà di verde, arancione e viola. Sono più difficili da coltivare rispetto a quello bianco, ma per il resto non differiscono molto. Quante varietà di cavolfiore esistono? Diverse centinaia. Per capire se un uovo è fresco, mettilo dentro una ciotola con dell'acqua. Se è fresco scenderà rapidamente sul fondo, mentre se è cattivo rimarrà a galla. Ehi, l'ultimo in fondo è cattivo. Ok, è il momento di sgranchire un po' le gambe e fare una passeggiata nel parco. Il sole splende, tutto va alla grande. È allora che vedi una nuvola in rapida crescita. All'inizio è di un bianco brillante e si avvicina molto velocemente, diventando più densa e più scura. Il cielo si oscura e una folata di vento ti fa cadere il cappello dalla testa. Così poi i tuoi capelli cominciano ad elettrizzarsi. Questo è il segnale di scappare via più in fretta che puoi. Stai per essere colpito da un fulmine. In questo preciso momento le cariche positive stanno salendo attraverso il tuo corpo. Si stanno dirigendo verso la parte caricata negativamente della tempesta. Se non reagisci velocemente queste cariche elettriche si incontreranno e per te finirà molto male, ragazzo. Se non hai modo di nasconderti, accucciati e cerca di raggomitolarti per essere meno imponente rispetto a ciò che ti circonda. Non sdraiarti per terra. Potrebbe essere bagnato e quindi essere un ottimo conduttore di elettricità. Ci sono anche altri segnali che ti fanno capire che sei in pericolo durante un temporale. I palmi delle tue mani potrebbero cominciare a sudare. Potresti sentire bizzarri crepiti, ronzio, vibrazioni provenienti da oggetti metallici nelle vicinanze. La pelle potrebbe cominciare a formicolare. Potresti sentire uno strano sapore metallico in bocca. Se sai per certo di non aver mangiato della carta stagnola, fai attenzione. Inoltre potresti sentire odore di cloro, che in pratica sarebbe ozono. Le cariche elettriche dividono le molecole di azoto e ossigeno, che sono i principali gas che formano l'atmosfera, in atomi separati. Quando questi atomi si uniscono di nuovo, alcuni producono delle molecole composte da tre atomi di ossigeno, cioè ozono. E potresti sentirlo durante un temporale, perché le correnti d'aria lo portano giù dalle alte quote. Puoi capire quanto è vicino un temporale, misurando il tempo che intercorre tra l'avvistamento di un fulmine quando senti effettivamente il rumore del tuono. Ogni cinque secondi corrispondono a 1,6 chilometri. Il cielo sopra la tua testa si sta oscurando e diventa minacciosamente verde. Qualcosa ti colpisce sulla guancia. Ai, fa male! Così raccogli l'oggetto incriminato. È un enorme chicco di grandine. Ma fuori non fa così freddo e non piove. Noti come tutto è immobile e silenzioso. Non c'è alcun vento. E ti rendi conto che è calma piatta prima della tempesta. Infatti, presto senti un rumore. Si sta avvicinando rapidamente e si trasforma in un forte ruggito. Come se un treno merci si stesse muovendo verso di te. Solo che non è un treno. È un tornado. E non hai tempo per scappare. L'imbuto non è visibile dietro una nuvola di detriti. Ma non puoi confondere questa colonna d'aria rotante con nient'altro al mondo. Se il tornado dovesse raggiungerti mentre sei per strada, allontanati il più possibile dall'auto. Ciò impedirà che il veicolo venga lanciato verso di te. Trova un fosso, sdraiati e copriti la testa. Se sei dentro casa, allontanati dalle finestre e nasconditi sottoterra se possibile. Invece, diciamo che adesso sei in riva al mare, stai camminando lungo la riva e ti stai godendo una leggera brezza. All'improvviso il terreno comincia a tremare sotto i tuoi piedi. Deve essere un terremoto! La prossima stranezza che noti è l'acqua che si ritira dalla spiaggia a una velocità vertiginosa. Lascia il fondo dell'oceano esposto, la barriera corallina e persino i pesci. È allora che senti un rugito in lontananza. Questo è uno tsunami e hai soltanto pochi minuti per salvarti la vita. Raggiungi subito un'altura perché un'onda gigante si sta dirigendo verso la riva. Forza! Questo non è l'unico modo in cui uno tsunami può insinuarsi. Non sempre si schianta contro la riva come una serie di enormi onde. Uno tsunami può sembrare anche una marea in rapida ascesa. Di solito va di pari passo con gravi turbulenze sottomarine, trascina le persone sotto la superficie e sposta oggetti pesanti con grande facilità. Puoi anche notare l'acqua che gorgoglia, vortica e crea schemi bizzarri. Questo è un altro segno dell'arrivo di uno tsunami, ovvero che il tuo cane si è irrequieto. Non sto scherzando, sta graffiando la porta d'ingresso, vaga per l'appartamento e cerca di nascondersi. Di solito è calmo e docile, mentre adesso ulula e abbaia. Negli ultimi giorni anche il clima è strano. Fa caldo un giorno e freddo il giorno dopo. Hai anche notato che il ruscello vicino casa è pieno d'acqua e fluisce velocemente. Soltanto quando i bicchieri cominciano a tintinnare dentro la credenza ti rendi conto di quello che sta accadendo. Il rumore è prodotto da scosse preliminari o piccoli terremoti da visaglia, prima della grande tempesta. I terremoti si verificano spesso in serie. Se si verificano diversi terremoti deboli, uno molto più grande potrebbe essere in arrivo. Qualche tempo prima che il disastro colpisca potresti notare delle bizzarre luci blu. Alcune provengono dal terreno, altre invece dall'aria. Queste sono le cosiddette luci del terremoto. Sono causate dalle rocce che subiscono grande stress. Possono essere viste per giorni o pochi secondi prima del terremoto stesso. Anche se c'è da dire che alcuni esperti non credono affatto alla loro esistenza. Se pensi che stia per accadere un terremoto e nel tuo acquario hai un pesce gatto, fai attenzione a come si comporta. Gli scienziati hanno dimostrato che questa specie può reagire ai tremori della terra. Il pesce diventa irrequieto e sente che l'attività sismica è davvero elevata. Alcuni insetti possono sentire l'arrivo di una tempesta, invece. Si preparano a questo disastro interrompendo qualsiasi tipo di movimento. Quindi se noti che gli insetti ti sembrano un po' assonnati, beh, cerca subito un riparo. Anche le api possono prevedere i temporali. Cominciano a lavorare molto più duramente il giorno prima che cominci a piovere. Le onde quadrate si verificano quando due diversi tipi d'onda si schiantano l'uno contro l'altra. Questo fenomeno sembra fantastico, ma soltanto se guardi da riva. Non pensarci neanche di entrare in acqua per giocare tra queste onde, perché formano delle correnti incrociate che possono facilmente trascinare giù persino un nuotatore esperto. E se vedi delle onde che trasportano detriti e alghe, beh, sta fuori dall'acqua. Può essere un segno di una forte corrente di strappo. E anche questa può trascinarti a largo. E anche se vedi qualcosa di verde e maleodorante sulla superficie, beh, stai lontano dall'acqua. Potrebbe essere una pericolosa fioritura di alghe. Non puoi sapere se sia tossica o meno, quindi faresti meglio a stare alla larga. Da 3 a 4 giorni prima dell'arrivo di un uragano, la superficie del mare o dell'oceano può gonfiarsi fino a 2 metri e le onde colpiranno la riva ogni 9 secondi. Più l'uragano si avvicina, più rapidamente queste onde si infrangeranno contro la riva. Inoltre le onde diventeranno più grandi, a volte, fino anche a 5 metri. Il cielo sarà disseminato di nuvole leggere e soffici. Circa 36 ore prima che l'uragano raggiunga la riva, la pressione atmosferica comincerà a diminuire. Dopodiché il vento invece accelererà. Nel cielo compariranno nuvole e filamenti sottili. 18 ore prima che l'uragano raggiunga la riva, il cielo si aprirà e comincerà a piovere. Spesso l'acqua piovane inonda le zone più basse, raggiungendo anche i 4 metri e mezzo. Quando l'uragano è a 12 ore di distanza, una potente tempesta comincerà a portare con sé diversi detriti. 6 ore prima, la velocità del vento sarà di 145 km orari. È abbastanza forte da spezzare e persino sradicare gli alberi. A proposito, diciamo che sei in mare aperto e ci sono degli squali che girano intorno alla barca. Sì, lo so, che paura! Tieni lì d'occhio. Se improvvisamente dovessero andare via e raggiungere così le acque più profonde, beh, potrebbe significare che un uragano si sta avvicinando. Torna sulla terra ferma il più velocemente possibile e avvisa tutti gli altri. Se durante un periodo di forti piogge senti un ruggito, potrebbe trattarsi di un'alluvione improvvisa, che si sta muovendo proprio nella tua direzione. Se sei vicino a un fiume, potresti vedere detriti che scendono insieme al flusso dell'acqua. L'acqua potrebbe cambiare colore e diventare più torbida e scura. Questi segnali dovrebbero avvisarti che c'è qualcosa che non va, e se segui il tuo istinto, saprai che non c'è tempo da perdere. Cerca di allontanarti il più velocemente possibile. Le inondazioni improvvise sono spesso letali. Se sei invece in mezzo alla natura, presta attenzione all'acqua nei ruscelli, torrenti e fiumi. Se l'acqua sale o scende velocemente, potrebbe essere un segno che sta per verificarsi una frana. E se vedi l'acqua diventare fangosa, non aspettare ancora, esci subito da quella zona. Sì, lo so, ti ho fatto un sacco di terrorismo. Qualcosa ti sveglia nel cuore della notte. Hai la sensazione che qualcuno ti stia fissando. Ma quando apri gli occhi, c'è solo il tuo cricetino, quello che hai comprato appena il giorno prima. O almeno ti sembra lui, ma ha qualcosa di strano, come un'espressione feroce. Ad un tratto, quello che sembra il tuo criceto si alza sulle zampe posteriori e ullula, come un lupo, ma con un tono molto più acuto. Dopodiché, il piccolo roditore si allontana verso la finestra, ti lancia un'ultima occhiata e sparisce. Ma che cos'era? Calma, quello che ti sembrava un innocuo topolino era in realtà un onichomis, meglio noto come il topo delle cavallette. Ed è un feroce predatore, agile, rapido e praticamente invulnerabile. L'animaletto è diffuso nel Nord America ed è un vero opportunista. Ad esempio, adora occupare le tane altrui. Il simpatico topolino di notte va a caccia di cavallette, serpenti e ragni, ma più di tutti adora la più pericolosa delle prede, lo scorpione del deserto, una specie estremamente velenosa, ma non per il nostro amichetto. Milioni di anni di evoluzione hanno reso questo roditore del tutto immune alle neurotossine dello scorpione. Per questo animale, il veleno è praticamente una bevanda energetica. Inoltre, non sente il dolore. Più uno scorpione lo punge, più il topo si carica di un'energia inesauribile. Sconfitta la freda, il roditore alza la testa verso il cielo stellato e ulula. Beh, più che altro fischia, ma comunque lo si sente eccome. Il suo verso è acuto quanto il fischietto di un arbitro durante la partita. Così facendo, il topo praticamente lancia un messaggio ben chiaro. Che a nessuno salti in mente di darmi fastidio! Chiedere per conferma al povero scorpione. Perciò, lì in camera tua, quel topo stava cantando vittoria. Chissà, magari aveva liberato la tua camera da letto da un pericoloso intruso. Per nostra fortuna, la natura ha mantenuto questo topolino di dimensioni molto ridotte. In ogni caso, vederne uno è un segnale di allarme anche per noi. Se sta cacciando, significa che da quelle parti si nasconde uno scorpione. Già da cucciolo, questo topo è estremamente aggressivo. La loro è un'educazione spartana. Sin dai primi giorni di vita, i piccoli combattono tra di loro. Ora, immagina di aver trovato un lavoro un po' particolare. È il tuo primo giorno e il boss ti chiama e ti dice Allora, devi progettarmi un nuovo animale e voglio tutto entro stasera. Preso dall'entusiasmo, hai esagerato un po' e hai immaginato un ornitorinco. Un animale ricoperto di morbido pelo, con la coda da castoro, le zampe palmate e un becco da anatra. L'ornitorinco è un mammifero, ma depone le uova. Quasi uno scherzo della natura. I maschi hanno persino uno sperone velenoso sulle zampe. Non è un veleno pericoloso per noi umani, ma meglio non correre rischi. Se quello sperone ti punge, una settimana di dolori lancinanti non te la toglierà nessuno. Parlando di animali con un gran caratteraccio, il campione assoluto è il tasso del miele. Somiglia a una puzzola, ma per così dire, una palestrata. E della puzzola ha anche il classico odore. Questo tasso pesa quanto un bambino sui due anni, ma non ha paura di nulla e di nessuno. Non importa chi sia il suo avversario, un serpente velenoso, due leoni, un branco di iene. Di qualunque cosa si tratti, il tasso darà battaglia, uscendone spesso vincitore. Se vuoi del miele fresco, fattelo amico e distruggerà un alveare per te. Non ha la minima paura delle api. La sua pelle è talmente coriacea che le punture nemmeno le sente. Ha unghioni affilati e mascelle temibili. Il tasso del miele è diffuso in Africa, ma anche i suoi cugini americani ed europei hanno un pessimo carattere. Non sarà un peso massimo, ma un ghiottone non ci penserà due volte ad attaccare un orso o un alce. Questo carnivoro, grande quanto un cane di media taglia, reagisce alla minima provocazione. E non perde tempo. È un animale robusto, ottimo nuotatore e corridore instancabile. Le sue zampe fanno presa sulla neve e non c'è scampo nemmeno sugli alberi. Si arrampica con incredibile agilità. Il simpatico vombato è un marsupiale e sembra quasi un orsetto di peluche. Ha una corporatura tozza e pesa circa quanto un pastore tedesco. Vive in Australia ed è un provetto scavatore, ma è famoso soprattutto per la sua strategia difensiva. Se un nemico tenta di invadere la sua tana sotterranea, il vombato blocca l'ingresso con il suo... Lato B. In quella parte del corpo, l'animale è protetto da robuste placche e osse e non teme morsi. Ha un'indole pacifica, ma siccome non vede molto bene, in caso di minaccia, può attaccare senza esitazioni. La mangusta grigia indiana è specializzata nel combattere il temibile cobra reale. Ogni battaglia è come una elegante coreografia e la mangusta è talmente agile che il cobra non fa in tempo a reagire. Alla fine il serpente cercherà scampo nella fuga. La mangusta è protetta dal suo folto manto ed è inoltre immune al veleno del cobra. Questi animali sono lontani cugini dei felini e in India spesso vengono anche addomesticati, o quasi. In natura è raro che una mangusta morda o attacchi una persona, ma non si sa mai. È un animale coraggioso e imprevedibile. Nessuno sa quanti ratti esistano nel mondo, ma ci superano di numero almeno due volte. Sono animali straordinari che ridono, sognano e soffrono lo stress. Vivono in gruppi numerosi e sono capaci di avere la meglio su nemici molto più grossi di loro. Sono stati rivenuti morsi di ratto su ossa di dinosauro vecchi di 75 milioni di anni. E hai mai sentito del re dei ratti? No, non è un ratto con la corona. È un'espressione per descrivere un gruppo di roditori legati insieme per la coda. Il più grande mai osservato consisteva di 32 esemplari. Gli opossum sono mammiferi molto antichi, rimasti più o meno identici sin dall'era dei dinosauri. A quanto pare, la loro strategia difensiva funziona. All'avvicinarsi di un nemico, il nostro eroe non scappa e non attacca. Quello che fa è fingersi morto. Il suo impegno è ammirevole. Rallenta persino il respiro e il battito cardiaco. Un'interpretazione da Oscar. Per ulteriore realismo, l'animale emette anche un odore così tremendo che il predatore preferirà restare a pancia vuota piuttosto che avvicinarsi. In realtà non si tratta di azioni volontarie, ma di meccanismi naturali in risposta a un pericolo. Gli opossum non sono aggressivi, ma se messi in spalle al muro, tireranno fuori i denti, piccoli ma affilati come rasoi. Il solenodonte è un altro tipetto dal brutto carattere. Ha il pelo rossiccio, il naso da pinocchio e una lunga coda glabra. È armato di denti affilati e una speciale ghiandola nella bocca rende la sua saliva velenosa. Veleno a cui, curiosamente, nemmeno lui è immune. Deve sempre stare attento a se stesso. I solenodonti hanno un'indole aggressiva. Sei nervositi, prima grugniscono e poi si lanciano all'attacco di qualsiasi cosa gli passi vicino. La sua saliva, comunque, è innocua per noi umani. Il gerboa pigmeo è il più piccolo roditore del mondo. Sembra un canguro in miniatura e pesa poco più di una monetina. Il roditore più grande è invece il capibara, famoso per il suo aspetto buffo. Ma in passato ne esistevano di ancora più grandi. Milioni di anni fa esisteva un roditore grande quanto un bufalo, il foberomis. Era il bivoro e sembrava un po' un porcellino d'India mascherato da ippopotamo. Il prossimo animale nella nostra lista, invece, è senza dubbio il più bizzarro roditore del mondo. Si tratta della cosiddetta talpa senza pelo. In effetti è completamente glabra e vive sottoterra, ma diciamo che con lei la natura ha davvero esagerato. Sembra un essere alieno di qualche film dell'orrore. Non che a lei i porti, anzi, in media un roditore vive per circa due o tre anni. Una talpa senza pelo può arrivare a 30 anni. Immagina di poter vivere fino a mille anni. Ecco, tra i roditori, 30 anni equivalgono a tanto. Gli scienziati vogliono persino studiare questi animali, nella speranza che ci aiutino a vivere più a lungo. Una colonia può contare fino a 300 esemplari. Vivono in Africa e possono scavare aree di terreno grandi quanto sei campi da calcio. Escono in superficie molto raramente e non hanno mai bisogno di bere. Tutta l'acqua che occorre è già nelle radici di cui si nutrono. E' di nuovo quel periodo dell'anno, pulizie di primavera. Uscendo prendi il piumino e la scopa per sbarazzarti di tutte quelle ragnatele sulle finestre. Questa volta non hanno nessuna possibilità. Rimuovendo una ragnatela dopo l'altra, improvvisamente noti del fango dalla forma strana sotto la grondaglia e il portico. Che cos'è? Improvvisamente hai la risposta. Questi devono essere nidi di vespe muratrici. Starei pensando che ce n'è uno sciame in giro con così tanti nidi uno accanto all'altro. Per fortuna le vespe muratrici sono insetti solitari. Tutte quelle piccole strutture di fango sono piene di ragni paralizzati. A volte anche fino a 500 ragni possono rimanere intrappolati in questi loculi, aspettando solo che i piccoli di vespa si schiudano. Se il nido ha dei buchi può significare che è inattivo o vecchio, poiché le vespe muratrici creano dei buchi quando lasciano il nido. Se hai intenzione di rimuoverli, è meglio aspettare la notte perché sono meno attive. Anche se sono piuttosto tranquille, quando si sentono minacciate non esitano a pungere. Sembra che qualcuno sia arrivato a metà della creazione di un insetto e abbia dimenticato la parte successiva. Il grillo talpa è un insetto che sembra davvero particolare. Con gli artigli di una talpa, il corpo di un grillo e la testa di un gambero, questa creatura è l'ornitorinco del mondo degli insetti. Non sono velenosi e mordono solo se intrappolati nel palmo di una mano. Quando sono veramente infastiditi, hanno un altro asso nella manica. Le ali possono anche sputare un liquido marrone maleodorante direttamente dal loro corpo, proprio come una puzzola. Quindi lasciali uscire da casa tua e non avrai bisogno di pulire nulla. Le piscine naturali al mare pullulano di ogni tipo di vita vegetale e animale. Creature come stelle marine, alghe, paguri, piccoli pesci e tutti i tipi di polpi. Se ti imbatti in questo piccolo polpo dagli anelli blu, è meglio lasciarlo stare. C'è un motivo se si muove verso di te mettendo un bagliore blu lampeggiante. Questo polpo in miniatura ha un morso velenoso che è mille volte più forte del cianuro. E al momento non è disponibile nessun antidoto. Non punzecchiarlo con un bastone o cercare di raccoglierlo. Non vale il viaggio in ospedale o all'obitorio. I serpenti sulla terraferma fanno paura, ma quelli di mare sono di tutt'altro livello. Negli oceani indiano e pacifico sono stati trovati circa 50 specie diverse di serpenti marini e sono tanto belli quanto pericolosi. Per fortuna non sembrano preoccuparsi troppo di noi. Il serpente marino du bois è probabilmente il serpente più velenoso degli oceani, con il serpente becco di mare a breve distanza. Il loro veleno fa sembrare il morso di un cobra a una passeggiata nel parco. Il veleno di entrambi questi serpenti è estremamente pericoloso. Fortunatamente, qualora riuscissero a mordere qualche malcapitato attraverso la muta, il loro veleno può impiegare ore per causare sintomi negli esseri umani. Se vedessi questa mosca atterrare sul tuo braccio, beh, probabilmente urleresti un bel po', e non ti biasimerei. I meccotteri hanno una coda di curva che sembra proprio il pungiglione di uno scorpione, ma puoi tirare un sospiro di sollievo, perché viene usata solo per l'accoppiamento. Questo insetto ha anche una lunga testa a forma di becco, usata per nutrirsi dopo aver rubato gli insetti intrappolati nelle ragnatele. Per trovare il partner ideale, prendono spunto dall'uomo. Soltanto che mentre noi regaliamo una scatola di cioccolatini e dei fiori, loro donano la saliva. Mmm, che romantici! Se ti capita di fare un viaggio in Africa centrale, mi raccomando fai attenzione a non perderti questo uccello. Il becco a scarpa è in grado di rimanere immobile mentre voi gli passate accanto. Alto fino a 1,5 metri, con un'apertura alare di 2,5 metri, il becco a scarpa potrebbe sembrare un superpredatore, ma in realtà è tutt'altro. È universalmente conosciuto come uno degli uccelli che si muovono più lentamente. Sembra quasi una statua. Il becco a scarpa si limita a mangiare i pesci vicino alla superficie dell'acqua e a vivere senza troppe preoccupazioni. Questo uccello non ha affatto paura dell'uomo. Anche se lui non si avvicinerà naturalmente per scambiare quattro chiacchiere, ci permetterà di avvicinarci abbastanza per qualche foto. Ora, se senti un piccolo cigolio mentre sei in giardino, potrebbe essere un topo, uno scogliattolo o un dinastino che ti sta facendo sapere che sei troppo vicino. Questa specie ama fare baccano quando viene disturbata. Dotati di un gigantesco corno in cima alla testa, contrariamente a tutte le aspettative, non sono in grado di difendersi con esso. La protuberanza serve solo per spostare foglie e bastoni dalla loro strada e per impedire agli altri maschi di entrare nella zona della femmina del coleottero. Non solo hanno un corno sulla testa, ma hanno anche una forza herculea. Sono in grado di sollevare 850 volte il loro peso. È come se tu fossi in grado di sollevare un peso di 65 tonnellate o 11 elefanti. Ehi, proviamo! Lo troviamo principalmente in Cina. Il piccolo cervo dal ciuffo sembra adorabile con il suo ciuffo ribelle. Questo finché non si gira. Oh no, è un cervo vampiro! Per fortuna questo animale non vuole bere il suo sangue o svolazzare indossando un mantello. Quelle impressionanti zanne sono una particolarità del genere maschile. Vengono usate durante la stagione degli amori per difendere i territori e le femmine. Questi canini superiori sono più simili a zanne di elefanti che a denti aguzzi. Questa non è la loro unica particolarità, ma sono anche noti per abbagliare come un cane e fuggire come un gatto quando hanno paura. Rosso di sera bel tempo si spera, rosso di mattina la pioggia si avvicina. Nessuno però ha parlato di una marea rossa. La marea rossa è una fioritura algale tossica che sale dal fondo del mare in seguito ad eventi atmosferici particolarmente violenti. Quest'alga assomiglia molto ad un container di ketchup sversato in mare o a venature di ruggine nell'acqua. Per la vita marina purtroppo è un pessimo segnale. Tutte le specie cercano di scappare una volta venute a contatto con l'alga. Non è particolarmente dannosa per gli esseri umani, ma ingerendo frutti di mare contaminati dalle sue tossine le cose possono diventare un po' più serie. Quindi, se il mare è rosso, stai lontano dall'acqua. Alcuni ragni amano mettersi in mostra sfoggiando colori brillanti per far capire la loro pericolosità. Non è però il caso del ragno dei cunicoli australiano. Questo ragno nero, lucido, non ha bisogno di stravaganze per dimostrare che è un duro. I ragni appartenenti a questa specie sono in grado di metterci KO senza troppi complimenti. Riescono a disattivare tutto il nostro sistema nervoso in appena 30 minuti. Tessono la loro ragnatela in qualsiasi anfratto, nei vecchi tronchi, nelle scarpe o anche dentro gli ignomi da giardino. Questi ragni amano vivere vicino al nostro ambiente per avere più cibo a disposizione. Quando si stancano di una zona, lasciano la loro ragnatela e cercano un posto nuovo. Perfetto! Alcuni sostengono che i tassi del miele tendano a non impressionarsi molto facilmente. Tutto sommato, posso capirli. Quando sei abbastanza coraggioso da portare via il cibo ad un giaguaro, un leone o una iena, ehi, perché un ragno dovrebbe farti paura? Questi parenti della donnola non sono solo feroci, ma anche superintelligenti. È nota la loro abilità nell'usare degli utensili per fuggire dai recinti. Oggetti come rastrelli, pietre e fango diventano arnesi che possono condurre alla libertà. Oltre a una somiglianza fisica con la puzzola, il tasso del miele dispone anche di una pericolosa ghiandola nella coda, contenente una potente sostanza maleodorante. Quindi sono feroci, puzzolenti, hanno una pelle estremamente elastica e forte e, per finire, hanno una forte immunità agli scorpioni e ai serpenti. La cosa migliore da fare se ti imbatti in un tasso del miele è lasciarlo in pace. Quale possibilità avresti? Mai sentito parlare del Heidnelumpeki? No? Magari conosci il suo altro nome, dente bilioso? Questo fungo non è tossico, ma ha un sapore così amaro che potresti pensarci due volte prima di assaggiarlo. Durante la fase di crescita, questo fungo bianco sembra avere una gelatina rossa che fuoriesce dal carpoforo. Questo liquido appiccicoso è la sua linfa che viene espulsa a causa dell'assunzione di troppa acqua. Una volta diventato adulto, il fungo assume una comunissima colorazione beige. Sotto il cappello, dove vengono prodotte le spore, ha una struttura simile a un dente, tanto per renderlo ancora più strano. I diavoli della Tasmania hanno la reputazione di essere di cattivo umore quando sono minacciati da un predatore, quando combattono altri maschi o quando ottengono un posto a tavola per la cena. Sono soprannominati diavoli a causa dei denti sporgenti, degli attacchi improvvisi e di una delle grida più spaventose che potrai mai sentire nel cuore della notte. Inoltre, mangiano praticamente tutto quello che gli capita sotto mano. Non sono soliti attaccare le persone, anche se si difendono quando vengono messi all'angolo. Dotati di un morso potentissimo, è meglio non esserne il destinatario. Meno male che anche i diavoli preferirebbero scappare. Succede ogni 43,8 secondi. Sto parlando dei furti d'auto negli Stati Uniti. Sì, ogni minuto qualcuno perde il proprio prezioso veicolo a causa dei malviventi. Se volete saperne di più su queste statistiche strazianti, eccovi accontentati. Solo nel 2020 sono stati denunciati oltre 800.000 furti d'auto e i pick-up Ford hanno vinto il premio per la miglior scelta dei malviventi, poiché sono stati i più rubati. Inoltre, il giorno di Capodanno ha registrato il maggior numero di furti. Sembra che tutti noi dobbiamo tenere d'occhio le nostre auto. Prima di tutto, è molto improbabile che qualcuno possa rubarvi l'auto mentre siete in viaggio, ma una volta parcheggiata è molto più facile. Quindi è necessario parcheggiare in modo responsabile. Sì, a volte dovrete camminare un po' di più, ma ne vale la pena se questo significa lasciare l'auto in un luogo ben illuminato. Le auto parcheggiate in modo improprio vengono spesso portate via dai carri attrezzi. Si è scoperto, però, che non tutti sono veri. Se doveste vederne uno vicino alla vostra auto, verificate se è vero o falso. Un vero carro attrezzi dovrebbe avere almeno un marchio e il suo personale dovrebbe indossare un uniforme. Ricordate che vi ho detto che non è così facile rubare la vostra auto mentre siete in viaggio? Mi dispiace, ma è vero solo in parte. Ai ladri di auto non interessa il fatto che siate seduti nella vostra auto. Il trucco è semplice. Anche se siete all'interno del veicolo, assicuratevi sempre di chiudere a chiave le portiere. I ladri d'auto hanno spesso degli schemi loschi per attirare i proprietari di auto fuori dal loro veicolo. Possono persino organizzare una trappola e inscenare un incidente stradale. Quindi, anche se vi accorgete che la vostra auto è stata urtata da dietro, non precipitatevi subito fuori per controllare. Aspettate un po' e accostate. Assicuratevi che il luogo in cui vi fermate sia sicuro e che ci siano persone intorno a voi. In caso di sospetto, è meglio chiamare la polizia. Se siete pronti a sborsare un po' di soldi per proteggere la vostra auto, ecco alcune informazioni. È possibile installare un dispositivo di avviamento a distanza. Non è solo un'ottima cosa per chi vive nei climi più freddi e ha bisogno di avviare l'auto in anticipo. Il suo principale vantaggio è che non è possibile partire con un'auto avviata in questo modo, poiché questa modalità non consente di cambiare marcia. Ogni auto ha un numero di identificazione del veicolo, o semplicemente VIN. Questo può sembrare inutile, ma c'è un trucco. Quando i ladri vendono un'auto rubata, effettuano il cambio di VIN. Questo avviene quando vogliono camuffare un veicolo rubato e utilizzare un altro VIN di un'auto simile. Ma se incidete il vostro numero di telaio su ogni finestrino del vostro veicolo, i ladri capiranno immediatamente che siete interessati a proteggere la vostra auto. Inoltre un veicolo del genere sembrerà viziato per loro. Dopotutto dovrebbero fare il cambio del numero di telaio, oltre a dover scogitare un piano per riparare i finestrini con il numero di telaio inciso su di essi. Probabilmente dovranno cambiare completamente i finestrini e questo è costoso. Quindi rivendere un'auto del genere sarebbe troppo dispendioso in termini di tempo per i truffatori, che non sono disposti a impegnarsi così tanto. Andiamo, questi ragazzi non lavorano nemmeno, sono troppo pigri per occuparsi di quei finestrini. Tra l'altro alcuni specialisti possono eseguire l'incisione per voi, in modo che non dobbiate occuparvene voi stessi. A proposito, se volete acquistare un'auto usata, il VIN può aiutarvi molto. Alcune auto sono in un certo senso clonate, il che significa che il loro VIN non è reale, ma è stato semplicemente aggiunto manualmente alla targa, quindi è necessario controllare tutta la documentazione prima di acquistare un'auto usata. Prestate particolare attenzione ai documenti e assicuratevi che il VIN coincida con quello del veicolo. Ecco un altro gadget di protezione. Si chiama allarme intelligente per auto e il suo suono è ancora più sgradevole di quello di una sveglia. Può fare due cose. In primo luogo emette un suono molto forte che può spaventare gli intrusi e attirare i testimoni. In secondo luogo può inviare un'allarme nel caso in cui non si senta il suono assordante che emette. C'è un altro meccanismo segreto che può proteggere la vostra auto. È possibile installare un pulsante di arresto di emergenza da collegare all'accensione, alla batteria, al tubo del carburante e così via. Quando scendete dall'auto dovete semplicemente premere l'interruttore. Anche se i ladri dovessero in qualche modo rubare le vostre chiavi, questo non li aiuterà. Dovranno prima trovare l'interruttore per avviare l'auto. Sta a voi decidere dove nasconderlo. Sappiamo tutti che maggiore la sicurezza dell'auto meglio è. Ai malviventi non piace scherzare con la tecnologia e le statistiche lo dimostrano. Le Tesla, insieme ad altre auto ad alta tecnologia, sono state quelle meno rubate negli ultimi anni. Tuttavia, moderno non significa sicuro e a prova di ladro. Molti veicoli moderni sono dotati di porte di diagnostica per la gestione del motore. Sembra molto comodo, ma c'è un lato negativo. Queste porte possono aiutare a sbloccare e persino avviare il veicolo. Quindi, se la vostra auto è dotata di questa funzione, prendete in considerazione l'acquisto di una serratura con blocco. Controllate sempre di aver chiuso i finestrini prima di lasciare l'auto. Anche la più piccola fessura è sufficiente a un malvivente per aprire la portiera e rubare l'auto. Sì, non ditemi che è ovvio. Vedo auto con i finestrini aperti ogni giorno. Se un malvivente vuole davvero farlo, può semplicemente rompere un finestrino con un oggetto pesante o addirittura con una pietra. Capite dove voglio arrivare? Cercate di non far desiderare ai malviventi di aprire la vostra auto. Ciò significa che non devono essere visibili oggetti di valore. Quindi, per favore, niente laptop o borse sul sedile posteriore. Nascondeteli nel bagagliaio o portateli con voi. Ci sono molte opzioni. Basta non mostrare ai ladri che c'è qualcosa che possono rubare dalla vostra auto. Anche tenere una chiave di riserva nel cruscotto non è la migliore idea. I truffatori sanno dove cercarla. È molto semplice. Dopo aver aperto l'auto, che non è poi così complicato, aprono il portaoggetti e sono liberi di guidare. Diciamo che tenete ancora gli oggetti di valore in macchina e una chiave di riserva nel portaoggetti. Vi piace così? Allora prendete in considerazione l'installazione di un blocco a sterzo. Probabilmente non è molto funzionale, ma gli esperti ritengono che sia un deterrente visivo efficace. Ricordate che i ladri sono un po' pigri e non vogliono usare i vari gadget? Gli specialisti sostengono che i ladri sono più propensi a evitare un'auto dotata di un blocco a sterzo. Alcuni di essi sono piuttosto funzionali, tra l'altro. Quindi, anche se un malvivente volesse comunque portare via la vostra auto, non ci riuscirebbe. Inoltre non è così facile rimuoverlo. Ora il consiglio più ovvio. Si tratta delle telecamere a circuito chiuso. Oggi esistono numerose telecamere di questo tipo. Sono dotate di modalità di visione notturna, funzioni di rilevamento delle persone e risoluzione molto elevata. Letteralmente tutto ciò di cui potreste aver bisogno. Una vera telecamera può aiutarvi a sorvegliare la vostra auto 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ma se non avete voglia di spendere soldi per questo, potete installarne una fittizia e sperare che i ladri non la scoprano. Ok, immaginiamo il peggio. Qualcuno ha ignorato tutti questi semplici consigli e ha subito il furto dell'auto. Cosa deve fare? Innanzitutto deve fornire tutte le informazioni alla polizia. Assicuratevi di conoscere il colore. Lo so, è facile. Ma non usate parole complicate per descrivere il colore dell'auto. Ad esempio non è muschio, ma piuttosto verde scuro. E inoltre è necessario conoscere l'anno, la marca e il modello. Assicuratevi di ricordarli tutti. La polizia dovrà anche conoscere il numero di targa e il VIN. Se non ricordate a memoria il numero di telaio, scrivete una nota sul telefono per sicurezza. Gli infiniti e caldi deserti sembrano a prima vista privi di vita. Ma tra le loro dune si possono incontrare creature pericolose e inquietanti. Alcuni si limitano a causare problemi di salute. Altre potrebbero rimanere impresse nella nostra memoria per sempre. Andiamo a conoscerle. Iniziando da quelle pericolose fino alle più spaventose. Stai camminando nel deserto e vedi un grande orsacchiotto con gli arti spalancati. Capisci che probabilmente si tratta di un miraggio, ma ti avvicini. Avevi ragione, non è un peluche, ma un cactus gigante. C'è qualcosa di strano però. Con quella strana peluria i rami assomigliano alle zampe di un orsacchiotto. Ma non si tratta di peluria in effetti. Sono migliaia di aghi sottili. E sono il motivo per cui non ci si deve avvicinare. Il cactus è chiamato ciolla saltellante o ciolla orsacchiotto. Cresce nelle zone desertiche dell'Arizona e nella parte settentrionale del Messico. Non preoccuparti però non è pericoloso, a meno che non lo tocchi. In quel caso si attaccherà alla tua pelle o vestiti. Questa pelliccia protegge il cactus dagli animali, crea ombra e lo protegge dal calore. I rami laterali sono le parti più importanti della pianta, poiché svolgono la fotosintesi e accumulano una grande quantità di umidità al loro interno. Quindi nonostante la sua pericolosità, il cactus può essere utile agli escursionisti del deserto. Il pericolo è rappresentato dagli aghi. Se li osservi meglio, vedrai che hanno la forma di uncini. Basta un tocco e centinaia di spine ti si infileranno nel dito. È piuttosto difficile liberarsene e gli aghi sono molto dolorosi. Ma la cosa più bella di questo cactus è il modo in cui si riproduce, moltiplicandosi in luoghi diversi. Quando animali e persone passano davanti al ciolla salterino e lo toccano, il cactus gli lascia addosso un piccolo pezzo di sé, oltre agli aghi. Non appena questo pezzo finisce a terra, mette radici e inizia a crescere. Il prossimo mostro del deserto sta correndo verso di noi. È uno struzzo. Molti pensano che questi animali siano dei codardi che nascondono la testa sotto la sabbia. Ma di sicuro cambieresti idea se avessi la sfortuna di incontrarne uno. Di solito gli struzzi non sono aggressivi, ma se ti avvicini al loro nido, meglio scappare. Non è che tu abbia grandi possibilità di allontanarti, perché gli struzzi si muovono a una velocità di 70 km orari. Per sfuggirli è necessario a un'auto. Gli struzzi di solito corrono e colpiscono il nemico con il petto. Ci sono persino stati casi in cui hanno attaccato dei furgoni, causandogli danni significativi. Ma il pericolo principale di questi uccelli è rappresentato dalle loro potenti zampe con artigli affilati. Gli consentono di sferrare colpi fortissimi ai loro avversari. Quindi sì, se vedi uno struzzo in lontananza, cambia strada. Questa piccola lucertola maculata vive quasi sempre sottoterra nei deserti aridi degli Stati Uniti sud-occidentali e del Messico nord-occidentale. A volte esce all'aperto per cercare cibo. Sembra carina, ma in realtà è il pericoloso mostro di Gila. La sua pelle spessa protegge il rettile da falchi, coiote e altri predatori. Ma la sua principale protezione è il veleno. Serpenti e ragni iniettano le loro tossine usando lunghe zanne simili ad aghi. Il mostro di Gila stringe e mastica la preda per diffondere il veleno. E quando morde una persona, può tenere le fauci chiuse per molto tempo. Sbarazzarsene è un'impresa difficile. Le persone che hanno sperimentato gli effetti del veleno dicono che è come se del magma caldo fluisse nelle vene. Nonostante ciò, la lucertola si è rivelata utile per la scienza. I medici ne hanno utilizzato il veleno per creare farmaci contro il diabete e l'obesità. È ora! Stai per incontrare una delle creature più inquietanti del deserto. Fai silenzio e ascolta. Non muoverti. Non c'è nessuno in giro, ma, all'improvviso, senti un sibilo provenire dal basso. Abbassi la testa e lo vedi. Un grosso ragno giallo, grande come il palmo di una mano, con forti mascelle e lunghe zampe, si nasconde all'ombra del tuo corpo. Inorridito scappi, ma ti segue. Non è facile farlo, ma cerchi di calmarti. Quella creatura non è interessata a te. Sta solo cercando dell'ombra per nascondersi dal sole cocente. In ogni caso è meglio non toccarla. Le potenti mascelle del ragno cammello possono provocare sensazioni spiacevoli, per usare un eufemismo. Tra l'altro non è un vero e proprio ragno. Sì, appartiene alla classe degli aracnidi, ma è una specie a sé stante, appartenente alla famiglia solpugide. Gli piace mordere, è impavido e piuttosto aggressivo. Si nutre di insetti, lucertole, roditori e piccoli uccelli. Può persino muoversi a una velocità di 16 chilometri orari, il che è tantissimo per una creatura di piccole dimensioni. Per sfuggirgli bisogna prima essere atleti professionisti. Il più delle volte i ragni cammello si trovano nei deserti del Medio Oriente, ma vivono anche in Messico e negli Stati Uniti sud-occidentali. Questi corridori notturni cercano di evitare il sole durante il giorno, quindi sono sempre a caccia di ombra. Il loro nome deriva dal fatto che spesso si nascondono all'ombra dei cammelli. Non gli si può sfuggire né di giorno né di notte, soprattutto se accendi un fuoco. I solpugidi corrono sempre verso la luce nella speranza di mangiare qualcosa. Alcune specie di questi ragni emettono un suono sibilante per spaventare i nemici. Ora calmiamoci un attimo, lasciamo il deserto e andiamo verso gli umidi tropici della Tanzania. Sotto le cortecce degli alberi, le foglie cadute e nelle grotte buie, si può incontrare una delle creature più terrificanti della Terra. Lo scorpione frusta senza coda. Immagina un grosso scorpione senza coda con un corpo piatto, quasi come schiacciato da qualcosa. È simile ai ragni, ma non ha le ghiandole velenifere e non può essere tale. Questo mostro è silenzioso e veloce, ma la cosa più spaventosa sono i suoi due artigli anteriori, lunghi il doppio della creatura stessa. Nessuna preda riuscirebbe mai a sfuggirgli. La vita al buio delle grotte gli ha rovinato la vista, quindi lo scorpione frusta e evita la luce del sole. Durante la muta si arrampica sul soffitto e lentamente cambia pelle. Immagina di puntare la torcia in quel punto e vedere ragni pallidi con zampe eccessivamente lunghe uscire da piccoli bozzoli. Se mai dovessi trovarne uno, mantieni la calma e allontanati il più lentamente possibile. Fai attenzione. Essendo così piatto, quello scorpione può strisciarti sotto i vestiti in un secondo e morderti ovunque. E il peggio deve ancora venire. Ok, scherzo. Si tratta di una delle creature più timide e innocue tra i ragni e gli scorpioni. Ha paura di te e non ti attaccherà mai. Molti lo considerano bellissimo e tengono scorpioni frusta in terrari di vetro. Se ne vuoi uno, sorveglialo attentamente affinché non scappi. Se succedesse sarebbe impegnativo catturarlo di nuovo. In pochi istanti potrebbe infilarsi sotto il letto o passare tra le fessure del pavimento. Poi, attraverso il sistema di ventilazione, potrebbe raggiungere l'appartamento dei vicini e spaventarli. Ok, che dici di un altro scorpione? Non è inquietante come le altre creature di questo video, ma è lo scorpione più velenoso degli Stati Uniti. Si tratta dello scorpione della corteccia dell'Arizona. Il problema è che lo si può trovare nei deserti, in casa o in giardino. Questi pericolosi animali strisciano nelle abitazioni e mordono le persone. Una sola volta è sufficiente a provocare dolore, come una puntura d'ape. Ma chi è allergico può andare incontro a paralisi, problemi respiratori e altri problemi di salute. In alcune notti, quando il cielo sopra un potente temporale è limpido, si possono vedere elfi, gnomi, troll o jet blue. I jet blue suonano un po' strani, vero? Ma in realtà non stiamo parlando di favole. Si tratta solo di diversi tipi di lampi di luce che sono visibili soprattutto molto in alto, sopra le nuvole dei temporali. Prendiamo gli spettri rossi. Si tratta di lampi di luce che appaiono sopra i temporali e che si presentano a grappoli. Sono rari perché sono causati solo da un tipo specifico di fulmini, chiamati fulmini positivi da nuvola a terra. Durante un fulmine, una carica positiva viene trasferita da una nuvola al suolo. Questi tipi di fulmini costituiscono solo il 10% di tutti i fulmini. Per più di un secolo, molti hanno creduto che questi lampi fossero solo leggende metropolitane. Le persone li vedevano, ma di tanto in tanto. Ma i lampi erano così brevi che, anche se foste stati abbastanza fortunati da coglierli, non avreste avuto il tempo di chiamare qualcuno per assistere al fenomeno insieme a voi. Anche quando scienziati o piloti rispettabili ne parlavano, la comunità scientifica per lo più li ignorava. Nel 1989 è accaduto qualcosa di strano. I ricercatori dell'Università del Minnesota riuscirono a filmare i lampi. Ed è così che è iniziato il fenomeno. Le persone di tutto il mondo hanno iniziato a condividere video e foto di lampi rossi. I lampi rossi possono iniziare come sfere di 100 metri fatte di aria ionizzata. Queste sfere scendono da un'altezza di circa 80 km al 10% della velocità della luce. I ricercatori hanno studiato non solo i fulmini che scendono dalle nuvole impetuose, ma anche questi lampi colorati che salgono verso lo spazio. Quindi l'elettricità si estende fino all'ionosfera carica di elettricità, ma allo stesso tempo si abbatte verso il suolo. I lampi rossi hanno forme diverse, come questi a forma di medusa che a volte hanno aree che misurano fino a 77 km quadrati. Voi potete vedere lampi carota o lampi colonna. Sono simili, ma le carote hanno anche lunghi tralci. Le parti inferiori dei tralci sono spesso blu, mentre quelle superiori sono rosse. Il 22 agosto 2022 siamo riusciti a scattare alcune splendide foto di strisce rosse luminose nel cielo sopra il deserto di Atacama, in Cile. Erano circondate da un altro bagliore più grande di colore verdastro. Si tratta di qualcosa che chiamiamo Air Glow e che si può vedere così bene solo in assenza di inquinamento luminoso. In pratica quando usiamo troppa luce artificiale. E tra le altre cose non ci permette di osservare le stelle e altri oggetti che altrimenti potremmo vedere nel cielo. Il bagliore dell'aria è dovuto agli atomi di azoto e ossigeno presenti nell'atmosfera. La luce del sole li priva di elettroni durante le ore diurne, poi lentamente si ricombinano con i loro elettroni e questo processo li fa brillare. Come si fa a vedere un lampo rosso? Innanzitutto è necessario trovare un grande temporale. Sono più comuni in estate e in primavera, ad esempio a giugno. Naturalmente i lampi possono apparire in qualsiasi momento se ci sono temporali potenti con fulmini al livello del suolo. Il cielo deve essere limpido e molto scuro, idealmente senza la luce della luna. E la tempesta dovrebbe essere a circa da 160 a 322 chilometri di distanza. In questo modo le nuvole non bloccheranno il cielo e la visibilità sarà migliore. Nello scenario perfetto, la tempesta si muoverà lungo un orizzonte lontano, in modo da poter vedere tutto ciò che si trova al di sopra delle cime delle nuvole. È possibile seguire una tempesta con il radar meteorologico. Gli occhi hanno bisogno di un po' di tempo per adattarsi all'oscurità circostante. Concedete loro un po' di tempo, circa 20-30 minuti. Tenete gli occhi al di sopra delle nuvole e cercate di non guardarle direttamente. Ignorate i lampi di luce. Un lampo rosso apparirà forse una volta ogni 200 lampi. Non aspettatevi di poterlo riprendere con la macchina fotografica, non è facile. Ma la vista in sé varrà probabilmente l'attesa. Questo e altri eventi simili sono chiamati TLE, che sta per Transient Luminous Events, eventi luminosi transitori. Anche i getti blu sono degni di nota. Si tratta di fiocche luci blu che si alzano come uno sbuffo di fumo molto veloce sopra potenti grandinate. Sono molto rari e, nella maggior parte dei casi, si possono vedere solo da un aereo. Ora passiamo a queste creature da favola. Gli ELFI, se parliamo di lampi, sono brevi dischi di luce fioca che si possono vedere a circa 97 chilometri di altezza nell'atmosfera. È solo una breviazione. Il loro nome completo è Emissioni di luce e perturbazioni a bassissima frequenza dovute a sorgenti di impulsi elettromagnetici. Sì, suggerisco di attenersi a ELFI. Passiamo ai Troll. Si tratta di macchie rosse che spuntano vicino alle cime delle nuvole dopo un lampo rosso molto potente. Gli ignomi sono i lampi più piccoli e veloci. Stiamo parlando di piccoli picchi di luce bianca che balenano dalla cima di una grande incudine di nubi temporalesche. L'incudine è quella nuvola allungata che si vede in cima a un temporale impetuoso. Si propaga sotto vento insieme ai venti di livello superiore e durano solo un microsecondo. E guardate qui. I fulmini a palla hanno la forma di sfere infuocate che possono essere grandi come una pallina da golf o crescere fino a diventare un pallone da spiaggia molto grande. Possono essere gialli, rossi, bianchi, arancioni, verdi o viola. E possono rimanere in vita per un paio di secondi, a volte anche per minuti. Nel corso dei secoli molte persone hanno raccontato di aver visto dei fulmini a sfera che a volte sono persino entrati nelle loro case. Ma questi eventi sono davvero imprevedibili e si verificano molto raramente. Gli scienziati sono riusciti a ricreare in laboratorio un fulmine a sfera o almeno qualcosa di molto simile. Hanno capito che l'illuminazione a palla si manifesta probabilmente dopo che un fulmine colpisce il terreno. I grandi minerali presenti nel terreno si vaporizzano. Ecco qualcosa di spettacolare. Un fulmine vulcanico. Esso nasce tra i pennacchi di un'eruzione vulcanica selvaggia. Come gli altri temporali, i fulmini vulcanici si formano quando l'elettricità statica si accumula nell'atmosfera terrestre. Poi viene rilasciata sotto forma di fulmine. Gli scienziati non comprendono l'intero meccanismo, ma pensano che sia legato alla carica. Per esempio, la carica di ghiaccio è la causa della formazione dei temporali. Ha un ruolo nella produzione di fulmini anche durante le eruzioni vulcaniche. Ciò accade quando l'aria riscaldata da un'eruzione sale verso il cielo e incontra l'aria fredda. L'acqua dell'eruzione si trasforma in particelle di ghiaccio e, quando queste particelle si scontrano tra loro, alcuni elettroni vengono spostati. Le particelle di ghiaccio, che ora hanno cariche più positive, si spostano più in alto nel cielo e si riuniscono. Oppure potrebbe trattarsi di una carica per attrito o un altro elemento che porta ai fulmini vulcanici. Così come la carica del ghiaccio avviene quando minuscole particelle di ghiaccio si scontrano, qui abbiamo cenere e pezzi di roccia che si scontrano e creano ioni carichi. Ci sono anche i lampi scuri. Più di dieci anni fa, i ricercatori hanno scoperto che i temporali possono generare brevi ma fortissime esplosioni di raggi gamma. La forma di luce è con la più alta energia. Sono così luminosi da accecare i sensori dei satelliti, anche se si trovano a centinaia di chilometri di distanza. Possono anche creare antimateria. L'antimateria è un tipo di materia composta da particelle con carica opposta rispetto alle particelle della materia normale. Immaginate di avere due scatole piene di blocchi. Alcuni blocchi sono rossi e altri blu. Diciamo che questa scatola rappresenta la materia normale. L'antimateria sarebbe l'antibox con blocchi di colore opposto. I blocchi blu dell'antibox sono rossi e i blocchi rossi dell'antibox sono blu. Quando queste coppie si toccano, scompaiono o annichiliscono e si trasformano in energia. Questo è ciò che accade quando le particelle di materia e antimateria si incontrano. Questi lampi potrebbero essere il risultato di un fulmine scuro perché emette una luce che non è realmente visibile. I fulmini normali coinvolgono elettroni lenti. Nei lampi scuri, gli elettroni sono ad alta energia. Si schiantano contro le molecole d'aria e, così facendo, producono raggi gamma. Arrivi nella tua camera d'albergo, ti colleghi al wifi, salti sul letto e posti 15 foto della tua nuova vista dalla finestra. Appena l'esaltazione iniziale è passata, però, noti una luce lampeggiante sospetta sulla tv. È possibile che qualcuno ti stia osservando? O hai visto troppi film di spionaggio? Le telecamere nascoste sono di tutte le forme e dimensioni. Quelle grandi sono facili da individuare, ma quelle piccole possono essere davvero subdole e poco appariscenti. Possono nascondersi dietro i mobili, nelle decorazioni o nelle prese d'aria. Esistono anche telecamere speciali che possono essere nascoste in oggetti mobili di uso quotidiano, come sveglie, cornici, vasi e lampade. Controlla se questi oggetti sono posti in una strana angolazione o in modo da ottenere la migliore visuale del letto o del bagno. Il modo più semplice per individuare una telecamera nascosta è cercare il riflesso dell'obiettivo, perché tutte le telecamere sono dotate di lenti. Spegni le luci e scansiona lentamente la stanza con una torcia, un puntatore laser o uno speciale rilevatore di telecamere wireless. È dotato di luci a infrarossi e di una torcia. Quando trovi un puntino rosso riflettente, accendi la torcia per verificare la presenza di una telecamera nascosta. Controlla le prese d'aria e qualsiasi altro buco o fessura nelle pareti o nel soffitto. Alcuni rilevatori avanzati mostrano anche ciò che vede la telecamera, facilitandone l'individuazione e la disattivazione. Tuttavia, i rilevatori funzionano solo su telecamere accese e funzionanti. Anche il cellulare può aiutarti a trovare minacce nascoste. Attiva il Bluetooth e gira per la stanza. Verifica se sullo schermo compaiono dispositivi sconosciuti. Un'altra idea è installare un'applicazione per la scansione della rete che mostri tutti i dispositivi connessi al Wi-Fi dell'hotel. Una volta terminata, studia l'elenco alla ricerca di dispositivi denominati IP Camera o Cam. Puoi anche impostare il telefono in modalità selfie, spegnere la luce, chiudere le tende e guardare lentamente intorno alla stanza, concentrandoti sullo schermo. Cerca luci viola o bianche sullo schermo. Puoi giocare un po' a fare il detective, chiamare un amico o un familiare e iniziare a girare per la stanza. Le telecamere segrete dovrebbero emettere una sorta di radiofrequenza. È probabile che interferisca con il segnale delle chiamate telefoniche. Se al telefono senti strani rumori in una certa area della stanza, assicurati di ispezionarla. Controlla gli interruttori della luce, le prese elettriche, le lampade e altri oggetti a cui normalmente non faresti caso. Se sembrano un po' storti, fuori posto o hanno un buco, potrebbe essere un segno che qualcuno li ha manomessi. Molti dispositivi di spionaggio hanno bisogno di cavi e chi li ha installati deve averli nascosti, magari dietro il battiscopa. Ecco perché il punto in cui il pavimento e la parete si incontrano è da controllare. La presenza di creste, protuberanze o scolorimenti potrebbe indicare che vi si nasconde un microfono. Lo stesso vale per le macchie sui soffitti e pareti, anche se non più grandi di una moneta. Se trovi una telecamera nascosta o qualcosa di sospetto, non tirarti indietro e informa l'amministrazione dell'hotel o l'agenzia che sia occupata della prenotazione. Non toccare o spostare il dispositivo. Se l'hotel nega tutto, contatta le forze dell'ordine. Dopo aver esaminato la stanza alla ricerca di telecamere, controlla gli specchi. Qualcuno potrebbe osservarti dall'altro lato. Per prima cosa, verifica se lo specchio è integrato nella parete o se può essere spostato. Se lo specchio è semitrasparente, sarà integrato nella parete. Per controllare, fai un semplice test. Premi il polpastrello contro il vetro con abbastanza forza da lasciare un'impronta quando allontani il dito. Studiala. Se c'è un piccolo spazio tra l'impronta e lo specchio nel punto in cui dovrebbe esserci il vetro, allora si tratta di uno specchio. Su uno specchio semitrasparente non ci sarà spazio. Un altro modo per verificare se lo specchio è semitrasparente è dare un colpetto al vetro. Se qualcuno ti osserva dall'altra parte, lo specchio emetterà un suono vuoto. Un doppio specchio necessita di una luce più intensa dall'altro lato rispetto al tuo. Avvicinati e metti le mani intorno agli occhi. Vedi una luce dietro lo specchio? Se sì, è possibile che ci sia un pubblico indesiderato. Prima di lasciare la stanza o andare a letto, assicurati che ogni porta sia ben chiusa. E non intendo solo l'ingresso della stanza, ma anche la porta che conduce al balcone, se ne hai uno. Puoi portare con te un lucchetto portatile per sentirti più sicuro se rimani in stanza. Potresti anche fare da te e avvolgere una cintura o la cinghia di una borsa intorno alle maniglie della porta. Allacciala e avvolgila più volte per avere maggiore protezione. Un'altra idea per quando stai per andare a dormire è costruire una piramide di oggetti vicino alla porta. Bicchieri e tazze vanno benissimo. Se qualcuno cerca di entrare mentre stai dormendo, farà un bel rumore. Gli intrusi preferiscono mantenere un basso profilo, quindi è molto probabile che rinuncino subito a derubarti. Se viaggi con degli oggetti di valore e non ti senti a tuo agio a lasciarli in giro per la stanza, potresti metterli nella cassaforte della camera. Ma poiché queste cassaforti usano codici di accesso invece di serrature fisiche, qualcuno dell'hotel deve conoscere il codice principale per sbloccarle per sicurezza. Quindi porta la tua cassaforte. Su Amazon ad esempio se ne trovano alcune dall'aspetto di libri. Sono realizzate in metallo resistente e carta strutturata. Sono dotate di una serratura a combinazione e hanno spazio sufficiente per contenere passaporti, contanti e gioielli. Nel caso in cui debba lasciare il portatile nella stanza e voglia assicurarti che nessuno inserisca una chiavetta USB per rubarti i dati, lascia una bottiglia d'acqua o un altro oggetto vicino alla porta USB. Misura la distanza, supponiamo che sia di 2 centimetri. Per collegare il dispositivo al portatile, sarà necessario per gli intrusi spostare la bottiglia. Puoi anche riporre una penna accanto al portatile in una certa angolazione. Poi misura l'angolo con lo smartwatch o il telefono tramite l'app bussola. Anche in questo caso, se qualcuno la sposta, lo saprai. Anche il semplice cartello non disturbare può aiutarti a capire se qualcuno è entrato nella tua stanza mentre eri via. Fai in modo che sembri che sia uscito di fretta e che il cartello sia rimasto accidentalmente incastrato tra la porta e il telaio. Se torni e il cartello è appeso liberamente, qualcuno deve averlo ignorato e deve aver cercato di disturbarti. In questo caso, contatta la reception e chiedi che qualcuno entri in stanza con te per sicurezza. Se tieni alla pulizia della camera tanto quanto alle tue cose e alla sicurezza personale, questa è per te. Gli addetti alle pulizie degli hotel hanno normalmente fino a 20 camere da gestire in un turno di 8 ore. Ciò significa che non avranno più di 30 minuti per la tua camera. Hanno tempo a sufficienza per rifare il letto, pulire i pavimenti della stanza e del bagno, svuotare i cestini e spolverare le superfici. Raramente hanno il tempo di occuparsi di oggetti più piccoli come gli interruttori della luce, le maniglie e i telecomandi. Essi sono proprio gli oggetti con cui si entra più a contatto. Possono contenere più germi della tua letta. Quindi, se vuoi essere sicuro che non ti finiscano sulle mani, porta con te un numero sufficiente di salviette antibatteriche per pulire questi oggetti prima di toccarli. Un tramonto viola. Devi averne visto uno almeno una volta nella vita. Normalmente non è niente di minaccioso e ha a che fare con il modo in cui viaggia la luce. La luce che produce il sole è bianca. Quando attraversa un prisma, vedi onde luminose di diversi colori, dal rosso e arancione al blu, verde e indaco. La luce normalmente viaggia in linea retta se non ci sono ostacoli sulla sua strada. Le onde luminose più corte, comprese quelle blu e viola, si disperdono più facilmente quando incontrano quegli ostacoli, come le molecole nell'atmosfera. Poiché il sole è basso sull'orizzonte, al tramonto e all'alba, la sua luce deve passare attraverso più molecole che disperdano la luce viola e blu. I colori che i tuoi occhi colgono sono giallo, arancione e rosso, ma con le giuste condizioni puoi vedere lo splendido cielo viola. A volte il cielo viola appare per motivi molto più spaventosi. Può essere causato da uragani, incendi o tempeste di polvere. La concentrazione di vapore nell'aria aumenta e la luce si disperde più del solito. Anche la polvere, il sole al tramonto e le nuvole basse contribuiscono a questo spettacolo naturale. Il cielo diventa arancione e rosso al tramonto se c'è abbastanza luce. Poi emana sfumature rosa che si confondono con un cielo blu scuro. Ora, ti ricordi cosa succede quando mescoli il rosa e il blu? Ottieni il colore viola. Non tutti gli uragani fanno diventare il cielo viola e cercare di prevedere se accadrà è come cercare di prevedere un arcobaleno. Tuttavia, in molti hanno riferito che diversi grandi uragani hanno fatto diventare i cieli viola. I cieli verdi possono sembrare spettacolari quanto quelli viola, ma in realtà gridano anche al pericolo. Di solito sono lì per dirti che un temporale, una grandinata o un tornado è nelle vicinanze. Il colore unico è il risultato dei raggi solari gialli che si mescolano con la luce blu proveniente dalle nuvole temporalesche. Ti stai godendo una bella giornata in riva all'oceano, con una fresca brezza tra i capelli, quando all'improvviso noti che l'acqua inizia a ritirarsi dalla spiaggia a grande velocità. Questo è un segnale per iniziare a correre il più velocemente possibile lontano dalla spiaggia. Questo molto probabilmente significa che è in arrivo uno tsunami. Una reazione rapida massimizza le tue possibilità di sopravvivenza. Se noti che il livello del mare si sta alzando ma non sembra troppo estremo, potrebbe essere un altro segno di uno tsunami in avvicinamento. Succede nel 40% dei casi e l'acqua che entra è la prima onda di tsunami. La prossima, molto più grande e più pericolosa, di solito segue in circa 10 minuti. Un'altra cosa degli tsunami è che a loro piace arrivare con dei suoni forti. In molti li descrivono come un tuono, il suono di una locomotiva, di un elicottero o semplicemente un forte boom. Vedi un canale sulla spiaggia? È nel tuo interesse stare lontano dall'acqua. Potrebbe esserci una corrente di strappo sotto la superficie che può essere estremamente pericolosa. A volte le onde colpiscono la riva in un modo strano che forma queste correnti di strappo. Potresti vedere una strana rottura tra le onde o un'area con un colore diverso rispetto al resto dell'acqua. Pezzi casuali di alghe che vanno in tutte le direzioni sono un altro segnale di avvertimento della corrente di strappo. Se ti capita di trovarti intrappolato in una corrente di strappo, cerca di rimanere a galla. Ma non cercare di andare contro corrente, sprecherai solo energia preziosa. Grida aiuto e prova a farti strada verso la riva. Una volta uscito dalla corrente, nuota in diagonale verso la spiaggia. La prossima volta che vedrai nuvole a forma di cono nel cielo, ricorda che è un buon momento per iniziare a cercare un riparo. Se rimangono così, è in arrivo una violenta tempesta. Ma se una nuvola di quella forma inizia a roteare, significa che sta per trasformarsi in un tornado. Se hai delle api nelle vicinanze, un giorno possono salvarti da grossi guai. Questi ragazzini laboriosi diventano più attivi del solito quando sentono che sta arrivando una tempesta. Accelerano per raccogliere più nettare prima della pioggia. E una volta che hanno finito, torneranno sempre all'alveare 10-15 minuti prima della pioggia battente, anche quando non ci sono segni evidenti del suo arrivo. Il loro segreto sono i peli super sensibili sulla schiena, che possono raccogliere gli accumuli elettrostatici dalle nuvole temporalesche. Per secoli, le persone hanno notato che gli animali si comportano in modo strano un paio di giorni prima di grandi eventi sismici. I cani non riescono a smettere di abbagliare, le mucche interrompono il latte, e rospi, topi e serpenti lasciano le loro case. Sembra che gli animali possano sentire onde d'urto iniziali più piccole che gli umani non notano neanche. Gli scienziati hanno cercato di trovare una spiegazione legittima. Ed eseguito infiniti test ed esperimenti. Finora stanno ancora cercando di spiegare questo mistero. Riesci a sentire l'odore di ozono nell'aria? Quando in arrivo a un temporale, è l'odore più distinto e pungente che puoi percepire. Una carica elettrica di un fulmine lo libera dalle altitudini più elevate. L'altro odore di pioggia più gradevole è il petricore. L'acqua piovana risveglia le molecole su piante, alberi, cemento e asfalto. Il loro aroma si diffonde ovunque. Puoi persino sentire quell'odore nella tua bocca. Tutti quegli ioni positivi nell'aria che un fulmine libera si mescolano con l'ozono e la tua saliva. Ed è così che ottieni quel sapore metallico amaro. Quando un fulmine sta per colpire, potresti sentire bizzarri crepitii, ronzii o vibrazioni provenienti da oggetti metallici nelle vicinanze. I tuoi palmi potrebbero iniziare a sudare e poi puoi sentire i tuoi capelli rizzarsi. Questo è un chiaro invito all'azione e quell'azione è correre per la tua vita. Le cariche positive stanno attraversando il tuo corpo, cercando di raggiungere la parte caricata negativamente della tempesta. Fidati di me, non vuoi che queste si incontrino. Se non vedi un riparo che puoi raggiungere velocemente, prova a renderti più piccolo degli oggetti intorno a te. A bassa l'ombrello e sta lontano da recinzioni metalliche, tubi metallici, binari e altri oggetti metallici. E non sdraiarti a terra. Probabilmente è bagnato, il che significa che il suolo è un ottimo conduttore di elettricità. Se improvvisamente noti delle fessure nell'asfalto vicino a casa tua, potrebbe essere un segnale di avvertimento di dolina. Ispeziona la tua casa dall'interno. Quella porta inizia a incepparsi? O forse c'è uno spazio vuoto dove le pareti incontrano il soffitto? Armadi e cassetti della cucina irregolari? Pavimenti storti? Scale che iniziano a inclinarsi? Perdite d'acqua dopo ogni pioggia e modanature spostate? Sono tutti segni che una dolina sta per aprirsi. Per scoprire se è sicuramente una dolina e quanto è pericoloso, devi consultare una società di ingegneria. Se trovi una dolina che è già lì, devi stare lontano dalla zona. Recintala per renderla meno pericolosa per gli altri. Avrai bisogno di un aiuto professionale per risolvere la situazione. Alcuni vulcani urlano quando stanno per eruttare. Piccoli terremoti che spesso si verificano prima producono un ronzio, per lo più non udibile alle orecchie umane, ma a volte raggiunge una frequenza che ti permette di sentirlo come uno strano brontolio o un sibilo proveniente dal sottosuolo. Questo rumore è noto come tremore armonico. Con alcuni vulcani è il suono delle bolle di magma che vibrano quando attraversano fessure nella crosta terrestre, ma non è sempre così. Se gli scienziati riuscissero a capire cosa causa esattamente queste urla vulcaniche, potrebbero creare un sistema di allerta limitato alle eruzioni vulcaniche. Se sei all'aria aperta, presta attenzione all'acqua di ruscelli e fiumi. Se il livello sta scendendo rapidamente, anche se sta piovendo, questo potrebbe essere un segno di una frana imminente. E se senti un debole rombo o suoni insoliti, come massi che si scontrano, potrebbe significare che i detriti stanno arrivando verso di te. È un segnale per mettersi subito al sicuro, come adesso. No, non puoi farci niente. Scatti un selfie in vacanza con le dita in segno di pace e lo pubblichi sui tuoi social. Prendi like, commenti, tutto molto bello sì. Il giorno dopo, qualcuno entra nella tua app della banca. Qualcuno ha appena rubato la tua identità. Tutto grazie a quel piccolo selfie innocente. Il segno di pace è diventato popolare per la prima volta circa 70 anni fa. Allora, nessuno avrebbe immaginato che potesse costarti tutti i tuoi preziosi dati personali. Al giorno d'oggi, usiamo le nostre impronte per sbloccare smartphone, tablet o il laptop. Se qualcuno può ottenere la tua impronta digitale, può avere accesso a praticamente tutto. I ricercatori giapponesi sono riusciti a scansionare e copiare le impronte digitali da una foto scattata a circa 3 metri di distanza. Qualità normale, impronte digitali a fuoco e la giusta illuminazione. A quanto pare basta questo per riuscirci. Migliore è la qualità dell'immagine, più è facile. Quindi se possiedi uno degli smartphone più recenti, rischi moltissimo. Tuttavia, un dito stampato in 3D non riuscirà a sbloccarti il telefono. Perché la maggior parte dei modelli più recenti dispone di lettori di impronte con piccoli circuiti elettrici. Quando entrano in contatto col tuo dito, essi ricreano il tuo modello di impronta digitale. La pelle umana è un conduttore, mentre l'inchiostro della stampante non lo è. Ma gli scienziati hanno trovato un modo per aggirarlo. Hanno usato una stampante 2D a getto d'inchiostro. Inchiostro conduttore con minuscole particelle metalliche e carta normale. E poi... sì, ha funzionato. I dati delle tue impronte sono davvero preziosi, perché sono più vulnerabili di qualsiasi password che potresti avere. Se accade qualcosa di strano, come ricevere un'email o un messaggio sospetto, puoi semplicemente cambiare password. Ma non puoi esattamente scaricarti una nuova impronta digitale. Come si potrebbe fare? Quando qualcuno ha accesso alla tua impronta, sono coinvolti molti, molti soldi. Sfortunatamente sì, sono i tuoi. I criminali informatici possono arricchirsi con questo tipo di dati, sai? Probabilmente usi il pollice per accedere alle app, comprese quelle bancarie. Ma lì ci sono soldi e informazioni personali in palio e al miglior offerente. Se qualcuno ha accesso alla tua cartella clinica, può ordinare attrezzature costose a tuo nome e rivenderle in seguito. Oppure possono semplicemente andare dal medico o dal dentista in modo gratuito. La buona notizia è che gli scienziati ci stanno lavorando su. Hanno inventato un adesivo su cui hai impresso un modello di pattern di dita finte. Impedirà alle persone di rubare la tua identità, ma ti consentirà comunque di utilizzare la tua impronta per sbloccare i tuoi dispositivi. Però, mi spiace, ci stanno ancora lavorando. Un'altra opzione è il rilevamento della vitalità. Dopo che il telefono ha letto l'impronta, ti chiede di annuire, ammiccare o sorridere. In questo modo il telefono riconosce l'impronta legata a te, una persona reale. Non c'è modo di riprodurre una cosa simile. Se ogni volta ti viene spontaneo fare il segno di pace con le dita, magari prova un'altra mossa caratteristica, tipo lo sciacca, il pollice in su, o quel gesto fantastico in cui metti il mento tra il pollice e l'indice. Oh, così di classe. Continua così, ma disabilita il lettore di impronte dal tuo telefono. Se scegli di farlo, dovrai stare dieci volte più attento alle tue password. Sii creativo quando rispondi alle domande di sicurezza, quelle che ti servono per recuperarla quando te la dimentichi. Se qualcuno cerca i tuoi dati, può reperire facilmente informazioni come il nome della tua scuola, il cognome da nubile di tua mamma, il tuo piatto o l'animale preferito. Complica un po' le cose. Puoi scrivere le tue risposte al contrario o semplicemente dare risposte sbagliate e divertenti che sei in grado di ricordarti. In generale, condividi il minor numero possibile di informazioni su di te online. Se hai il nome del tuo animale domestico come password, uno, cambiala. Due, se devi mantenerla, non condividere mai le foto del collare o della targhetta del tuo animale. Le migliori password sono e saranno sempre sequenze casuali di lettere e numeri. Puoi anche utilizzare un gestore di password per crearne una più sicura. Se la tua banca o compagnia di assicurazioni ti chiede di fornire alcune informazioni personali aggiuntive, sentili, chiamali, chiedi loro se ne hanno davvero bisogno. Leggi attentamente le email. Le email di phishing, spesso, presentano errori di ortografia e grammatica, anche se a volte l'indirizzo email sembra abbastanza sensato. Quando inserisci i tuoi dati di pagamento per acquistare qualcosa online, assicurati che sia presente un lucchetto prima dell'indirizzo della pagina web. Ciò significa che è protetto da eventuali furti o clonazioni. Non mettere mai la tua data di nascita completa sui social e non fare quei quiz online. A loro non serve davvero sapere in che scuola sei andato. Non pubblicare mai foto che contengano la tua carta di imbarco, il passaporto, la patente di guida, la carta di credito o qualsiasi altra cosa contenente informazioni personali. Anche se si vede sullo sfondo, gli hacker possono zoomare. Se non desideri che il resto del mondo conosca il tuo indirizzo, disattiva la funzione di localizzazione nelle impostazioni sul tuo telefono. Se vuoi davvero mantenere quelle informazioni sulla posizione per organizzare meglio le tue foto, puoi rimuovere manualmente il geotag dalle foto che vuoi pubblicare online. Se hai l'iPhone, seleziona una o più foto e clicca su Condividi. Dopodiché seleziona Opzioni. Disattiva tutti i dati delle foto nella schermata successiva che si apre. Sul Mac apri Foto e poi Preferenze. Deseleziona Includi le informazioni sul luogo per gli elementi pubblicati. Su Android apri Galleria. Tocca l'immagine da cui desideri rimuovere il geotag e poi scorri verso l'alto. Scegli Modifica, poi tocca il segno rosso accanto alla posizione. Infine, salva le modifiche. Fai attenzione quando fai acquisti online, durante il tragitto mattutino per andare al lavoro, soprattutto se stai guidando. In realtà sarebbe meglio evitare, ma se sei su un autobus o un treno, posiziona lo schermo in modo che nessuno tranne te possa vederlo. Non vorrai mica che un tizio subdolo ti freghi la password, o i dettagli della carta, o l'indirizzo di spedizione. Usa una protezione privacy per lo schermo, giusto per star sicuro. Non effettuare transazioni bancarie quando utilizzi una rete Wi-Fi pubblica. Quando la rete non è protetta, o se il sito web non è crittografato, rischi che tutti i dati finiscano sulla rete di qualcun altro, che potrebbe persino accedere con il tuo account. Disattiva le notifiche push sul telefono, o almeno limita ciò che puoi vedere sulla schermata di blocco. Il nome dell'app che lo ha inviato è sufficiente. Altrimenti, quando lasci il telefono per un momento in un luogo pubblico o al lavoro, qualcuno può avere accesso ai tuoi dati. Non dovranno neanche sbloccare il telefono per leggere il messaggio o la notifica. Non inviare mai le tue informazioni riservate per telefono. Potrebbe esserci un malware che registra tutto ciò che dici, o invia i tuoi dati da qualche parte. Se il tuo telefono funziona più lentamente del solito e hai app che non ricordi di avere installato, potrebbe essere stato manomesso. Il malware può arrivare anche sul tuo telefono quando installi un'app che non proviene dall'App Store ufficiale. Se un'app ti chiede permesso di accedere a più parti del tuo telefono, potrebbe non essere affidabile. Una forma di vishing o phishing vocale è quando qualcuno finge di essere un rappresentante di telefonie e ti chiede di fornire tutti i tuoi dati. Controlla sempre con la tua banca, l'ospedale o chiunque stiano fingendo di essere. La banca o l'ospedale, di solito, non ti chiedono informazioni sensibili al telefono. Potresti anche ricevere una chiamata automatica che ti chiede di contattare un numero per richiedere un premio. La registrazione potrebbe dire che puoi premere un determinato pulsante per interromperla, ma tu ignora. Ti scriverai a più chiamate automatiche perché sapranno che sei una persona reale. Chi fa vishing può cercare anche di clonarti la voce. È unica come la tua impronta l'iride o il DNA, ma un semplice sì o sto ascoltando può aiutarli a generare un campione della tua voce. Se ottengono questo o altri dati, possono accedere a dati più personali e persino fingere di essere te. Ci sono programmi soprannominati Photoshop per voce che possono creare registrazioni con parole che tu non hai detto davvero. Quindi la cosa migliore è riattaccare senza dire niente. Quando provi a eliminare qualcosa online, assicurati che venga effettivamente eliminato. Ci sono siti web che ti permettono di vedere il tuo account Facebook cancellato da tempo, con tutte quelle vecchie foto che preferiresti non condividere più. Quindi, se stai cercando prove della vita eterna, beh, ecco ti accontentato. Ops, si è appena verificato un altro furto negli Stati Uniti. Tra altri 22,6 secondi ce ne sarà un altro. Ehi, non preoccuparti per la tua proprietà. Uomo avvisato, mezzo salvato. Esploriamo insieme dei consigli su come proteggere la tua casa. Un banale adesivo può contribuire molto alla sicurezza della tua casa. Ad esempio, puoi usare un adesivo con su scritto che hai l'allarme in casa, anche se non è vero. Magari non è così convincente, ma i ladri preferiscono non scherzare con queste case. Solo un altro consiglio. Assicurati che l'adesivo sembri realistico. Quindi, ecco, un cartello improvvisato non va bene. E' meglio spenderci dei soldi e comprarne uno simile a quelli veri. Un altro trucco intelligente è lasciare un paio di scarpe molto grandi sotto al portico, in modo che i ladri possano vederle chiaramente. Così penseranno che ci vive qualcuno di grande e pericoloso, e non gli verrà voglia di disturbarlo. Bene, ora ispezioniamo la porta. Spero che non lasci le chiavi sotto allo zerbino. Le uniche cose che puoi lasciare sotto allo zerbino sono biscotti o patatine, ed è un modo divertente per scoprire se qualcuno ti ha fatto visita mentre non c'eri. Certo, questo trucchetto non ti dà una garanzia al 100%. Potrebbe essere stato un postino, un ragazzo delle consegne che ha sbagliato porta, o persino un cane che si faceva un giro per il tuo portico. Sì, i biscotti stanno meglio nello stomaco, non sotto allo zerbino. Ok, sei rientrato dal lavoro. È stata una giornata dura e sei stanco. Lasci le chiavi nel buco della serratura e te ne dimentichi completamente. L'importante, dici, è che hai chiuso a chiave la porta e che le chiavi sono dentro. Ma chi ha detto che non ci sono ladri tra i cespugli che prendono di mira la tua casa? Tecnicamente potrebbe essere impossibile inserire un duplicato ed entrare se c'è una chiave inserita nel buco della serratura. Ma questi ragazzi sono ben equipaggiati e hanno un bel assortimento di ganci per tirar via la chiave. Sai cosa succede dopo? Possono entrarti in casa silenziosi come ninja e rubarti tutti gli oggetti di valore mentre dormi pacificamente. Un'ottima soluzione sarebbe una serratura che si può chiudere solo dall'interno e non si può aprire dall'esterno. Quando ti trasferisci in un posto nuovo, anche se in affitto, fa cambiare le serrature. Chissà quante copie ci sono di quelle chiavi. Se sei in affitto, ad esempio, non sai chi ci viveva prima che ti trasferissi. Inoltre, se per qualche motivo hai accidentalmente lasciato le chiavi nella porta d'ingresso per un po', la cosa migliore da fare è cambiare la serrature. Sì, probabilmente non accadrà niente di brutto, ma comunque è meglio andare sul sicuro. Inoltre, non solo dovresti smettere di lasciare le chiavi nella top, ma anche evitare di lasciarle in bella vista. Forse è meglio portare le chiavi in soggiorno invece di tenerle vicino alla porta d'ingresso. A volte i ladri possono usare le porte, ma anche le finestre. Fa attenzione alla spazzatura, specialmente se butti via qualche contenitore di oggetti costosi. Non far sapere ai ladri cos'hai acquistato e quanto l'hai pagato. Inoltre, il tuo cestino potrebbe contenere delle informazioni essenziali sui tuoi dati personali, dettagli di carte di credito e molto altro. Tieni d'occhio la cassetta della posta. Tienila chiusa con un lucchetto perché i ladri potrebbero essere piuttosto interessati al suo contenuto. Il segreto è semplice. Tieni chiusa la casella di posta e assicurati di distruggere tutti i documenti relativi ai tuoi dati personali. Ora ispezioniamo il giardino davanti casa tua. Ehi, vedo qualcosa di compromettente. Sto parlando di questi grandi cespugli. Sì, lo so, non hai tempo per tagliarli. Più crescono, più i ladri avranno spazio per nascondersi. Inoltre, se qualcuno vede arbusti e alberi non tagliati in cortile, potrebbe pensare che non ci sia nessuno in casa. Capisci il punto, vero? Ok, supponiamo che tu abbia ignorato tutti i suggerimenti precedenti e che i ladri abbiano fatto irruzione in casa tua. La cosa più interessante per loro sono sicuramente i soldi. Se non hai contanti a casa, puoi saltare questo suggerimento. Ma se hai oggetti di valore, fatti creativo. I contanti si possono infilare in un sacchetto di plastica e nascondere in un grande contenitore con alcuni avanzi. Oppure puoi mettere quel sacchetto di plastica in una vecchia bottiglia di detersivo che tieni nel ripostiglio o in cucina, dove è improbabile che i ladri cerchino i soldi. Un paio di cose da evitare. Nascondere soldi o gioielli in un contenitore per pillole non è così intelligente. E sì, nemmeno il congelatore è l'opzione migliore. È il primo posto in cui molti ladri vanno a guardare. E ora di vedere se tieni bene le chiavi. Se tieni insieme le chiavi della macchina e di casa, forse devi cambiare abitudine. Prima di tutto, immagina di perderle e che i ladri sappiano in qualche modo dove vivi. Non solo prenderanno ciò che vogliono, ma avranno anche un veicolo per portarsi via tutto. Tieni d'occhio le chiavi del garage, soprattutto se dal garage si può entrare di soppiatto in casa tua. E poi chi l'ha detto che non ci sono oggetti di valore in garage? Comunque i ladri non hanno limiti. Possono intrufolarsi nelle case anche attraverso piccole finestre. Il motivo per cui preferiscono le porte è che sono il modo più sicuro per entrare. Dalle finestre si possono graffiare. E il problema non è che non vogliono rovinarsi il look, ma che se lasciano tracce di DNA possono essere rintracciati. Tuttavia, i truffatori stanno attenti a non lasciare le loro tracce. Ad esempio, un rapporto dall'Inghilterra afferma che solo il 3% circa dei ladri lascia prove forensi. Per proteggersi di notte ci sono diverse opzioni. Numero 1. Inserire una grossa graffetta o una forcina all'interno del buco della serrature. Puoi usare un paio di chiavi di riserva se le hai. In questo modo renderai estremamente difficile, se non impossibile, che i ladri utilizzino dei duplicati delle chiavi. Numero 2. Barricarsi. Può essere una sedia pesante, una libreria, quello che preferisci. Voglio dire, perché no se ti fa sentire al sicuro? Se la tua porta si apre verso l'esterno, un jammer potrebbe fare un ottimo lavoro per te. Una sedia può essere molto utile. Fissala sotto la maniglia della porta. Non è il sistema di sicurezza più potente, ma almeno fa il suo lavoro. Anche legare insieme i pomelli o le maniglie delle porte può essere un'opzione. Una finta telecamera di sicurezza può proteggerti di giorno e di notte. Ancora una volta, i ladri non sono così impavidi come potrebbero sembrare. Se hai una telecamera vera, assicurati che i truffatori non la disattivino. Mettila in un posto difficile da trovare. Se sei pronto a sborsare dei soldi per proteggerti, allora la luce con sensori di movimento è esattamente ciò di cui hai bisogno. I truffatori amano i punti bui e quando si avvicineranno a casa tua saranno spaventati dalla luce intensa. Questa soluzione funziona finché i ladri sanno che sei in casa. Nel caso in cui siano sicuri che tu sia via, è molto meno efficiente. I timer TV e radio sono un altro trucco. Con il loro aiuto puoi fingere di essere a casa anche se non lo sei. Un'idea che si sposa perfettamente con la luce e con i sensori di movimento. Questo trucco può aiutarti ad essere più scaltro dei ladri, ma non offre una garanzia al 100%. Alcuni non hanno paura di entrare in casa anche se la TV è accesa. Che dire di un sistema di allarme in tempo reale, vero o finto che sia? Sto parlando di cani. Ricordi il trucco degli stivali? Puoi farlo anche con un cane se non ne hai uno. Lascia una grande ciotola sotto al portico, ma assicurati che tutto sembri reale. Insomma, la ciotola non deve sembrare intatta e nuova di zecca. Ehi, conosci tuoi vicini? In caso contrario, è giunto il momento di preparare dei biscotti e andarti a presentare per conoscerli. Innanzitutto, ai ladri non piace molto operare in aree in cui le persone si conoscono e si prendono cura l'una dell'altra. In questo modo, le loro possibilità di essere individuati e segnalati sono estremamente elevate. Quindi, una sorta di guardia reciproca tra vicini è un modo perfetto per proteggere la tua casa. E chi lo sa, trovare nuovi amici? Il controllo di vicinato attivo è un modo fantastico per far sì che la comunità si prenda cura di se stessa. Se state per partire per le vacanze di Natale, chiedete ai vostri vicini di tenere d'occhio la vostra casa. Possono farlo attraverso semplici attività, come spostare le lettere della cassetta della posta o accendere una luce ogni tanto. In questo modo possono dare l'impressione che la casa sia occupata. Così non solo si riduce il rischio di ospiti indesiderati. Ma alcune compagnie assicurative potrebbero addirittura fare un'offerta se fate parte di un piano locale. Quei soldi extra potrebbero essere utili per i regali di Natale, tanto per dire. Anche i ladri devono essere piuttosto creativi durante le vacanze. Ci sono stati casi di ladri che hanno fuso le serrature di porte, finestre e capannoni. Sembra un po' estremo, ma può succedere. Assicuratevi che le vostre serrature funzionino, soprattutto in questo periodo dell'anno. Inoltre, bisogna installare porte in legno o acciaio composito, che non si danneggino facilmente. Conservate le chiavi di riserva in un posto sicuro, lontano da occhi curiosi, nel caso in cui ospiti indesiderati vengano a bussare. Un'altra buona idea è quella di contrassegnare i propri oggetti. I ladri, infatti, odiano gli oggetti personalizzati. Se i vostri oggetti hanno il vostro nome, numero di telefono o indirizzo, è difficile rivenderli. Inoltre, per le forze dell'ordine è più facile individuare i vostri oggetti. Quindi, quando è possibile, date un tocco personale ai vostri oggetti di valore, con intagli o ricami. In questo modo, aumenteranno anche le probabilità di ritrovare i vostri beni in caso di furto. Ecco un altro modo smart per far sembrare che siate in casa mentre siete in giro, se non potete contare sui vostri vicini. Utilizzate dei timer per le luci e lasciate la radio accesa. Potete anche lasciare un asse da stiro con una pila di vestiti nelle vicinanze, per far sembrare che siate appena usciti. Ricordatevi solo di spegnere il ferro da stiro. In questo periodo dell'anno, anche il vostro veicolo ha bisogno di cure extra. Quando le persone vanno a comprare i regali di Natale e li nascondono nel bagagliaio, le auto diventano bersagli privilegiati. Non lasciate mai l'auto da sola con il vostro carico natalizio all'interno. Parcheggiate sempre in un posto ben illuminato o su un vialetto per spaventare i ladri opportunisti. E avete presente quelle mattine gelide in cui lasciate il motore acceso per sbrinare il parabrezza? Scordatevelo! Lasciare l'auto incustodita con le chiavi inserite è piuttosto pericoloso. La maggior parte di noi pensa che un cartello attenti al cane sia un buon modo per tenere lontani gli estranei indesiderati. Ma durante il giorno può segnalare che non ci sia alcun allarme in casa, poiché i cani possono far scattare inutilmente i sensori. I ladri potrebbero pensare che sia un'opportunità per intrufolarsi. Quindi, se non avete un cane da guardia, forse dovreste riconsiderare quel cartello. Tuttavia, potreste impostare una skill cane da guardia gratuita su Alexa. È possibile attivarla a distanza per emettere il verso di un cane che abbaia e ringhia. In questo modo, chiunque dovrebbe pensarci due volte prima di entrare in casa. Rileggere i biglietti di Natale ricevuti alla fine dell'anno è piuttosto speciale. Anche i ladri ne vanno matti, soprattutto se le buste vengono gettate nel cestino. E il loro lascia passare per ogni tipo di informazione personale sulla vostra famiglia. Assicuratevi di strappare tutti i pezzi di carta o di imballaggio prima di gettarli nella spazzatura. Inoltre, se il pavimento è pieno di carta e lettere, per i ladri è un chiaro segno che non siete in casa. Per nascondere la posta ed evitare il letterbox fishing, potreste acquistare una protezione per la cassetta delle lettere. Se siete diretti fuori città per le vacanze, è bene che mettiate in ordine la casa prima di partire. Lasciare valigie e borse fuori segnala che la casa potrebbe essere vuota e quindi diventare un bersaglio più facile. Nascondetele sotto il letto o in garage prima di uscire di casa. Pensate anche al calendario della vostra famiglia. Se le date delle vacanze sono esposte in un luogo visibile agli occhi di estranei, potreste trovarvi di fronte a una spiacevole visita a sorpresa. Cercate di passare ai calendari online, che sono più facili da tenere riservati. Lo so, lo so, tutti vogliamo che il nostro albero di Natale sia vicino alla finestra per ottenere un'atmosfera accogliente e perfetta. Ma il problema è che in questo modo i ladri possono vedere bene i vostri regali. Le luci sull'albero possono anche dire ai ladri se siete in casa o meno, quindi magari usate un timer per le luci. E non dimenticate le calze, tenetele fuori dalla vista. Potete anche chiudere le tende per assicurarvi che le persone non vi stiano spiando. Aspettare l'ultimo minuto per impacchettare i regali può essere di per sé piuttosto stressante. Non è nemmeno la mossa più sicura per quanto riguarda la sicurezza. I regali non incartati sono la sorpresa perfetta per i ladri, perché possono vedere il loro valore in anticipo senza doverli scartare. Provate a coprire singolarmente i pacchi regalo. I ladri di solito fuggono a piedi, quindi eviteranno le borse ingombranti. Una volta scartati i regali con amici e parenti al vostro fianco, assicuratevi di riporli in un posto sicuro. Se avete prenotato le vacanze di Natale da tempo, forse non vedete l'ora di condividere la vostra gioia natalizia. Così come potreste essere entusiasti di condividere questo video con i vostri amici, cosa che dovreste fare. Ma fate attenzione a non condividere troppo le informazioni personali sui social media. Pubblicare le foto delle vostre costose cene all'estero può far pensare ai potenziali ladri che la vostra casa sia vuota. Utilizzate saggiamente le impostazioni della privacy e fate attenzione a chi può vedere i vostri post. Anche l'allarme con i sensori di movimento per gli angoli più bui della casa è un'ottima idea, anche se richiede un po' più di pianificazione e di investimento finanziario. Tuttavia, il costo medio di un furto con scasso è di circa 3.000 euro. Quindi prendete in considerazione l'investimento. Non sottovalutate le porte per cani e le gattaiole. Alcune persone potrebbero anche essere in grado di intrufolarsi in casa vostra attraverso quelle più grandi. E anche se le telecamere a circuito chiuso sono ottime, i ladri tendono a essere scaltri. Essi stessi monitoreranno la vostra casa per un po' alla ricerca di schemi e potenziali nascondigli. Come cespugli o zone buie. Inoltre, durante le vacanze, saranno alla ricerca di parcheggi vuoti come segno che una casa è vuota. Non si tratta solo della casa o della macchina. Quando siete in giro per negozi, cercate di limitarvi alle ore diurne se possibile. Se dovete andarci di sera, cercate di non andarci da soli. Inoltre, non portate con voi un sacco di contanti. È meglio pagare con carta di credito quando è possibile. Se avete contanti, però, teneteli in una tasca interna. Sarà più facile controllarli. Se perdete la carta di credito o notate qualcosa di strano nella vostra applicazione bancaria, chiamate subito il numero verde. Cercate di acquistare i regali in anticipo per evitare lunghe file e tante buste. Dovete vedere dove state andando e muovervi liberamente per evitare incidenti. Ancora meglio, se passate all'acquisto di regali online, affidatevi a siti web seri. Si prenderanno cura delle vostre informazioni personali. Se dovete acquistare qualcosa al centro commerciale, per esempio, fate attenzione agli sconosciuti che potrebbero avvicinarvi. Soprattutto in questo periodo dell'anno, i truffatori potrebbero cercare di distrarvi e rubare oggetti di valore. Durante le festività natalizie, potreste essere generosi e lasciare che più persone entrino in casa, soprattutto se avete in programma di ospitare feste o serate speciali. Tenete presente, però, che alcuni potrebbero fingere di essere vicini amichevoli che portano regali solo per sbirciare la vostra casa e i vostri oggetti di valore. Tenete d'occhio i visitatori, soprattutto se sembrano un po' strani. Se state uscendo ma avete bisogno di qualcuno che annaffi le piante, dia da mangiare agli animali domestici o si occupi delle tende, non nascondete le chiavi di riserva in bella vista. È più ovvio di quanto si pensi. I ladri sono intelligenti e conoscono tutti i soliti nascondigli, come sotto i vasi di fiori o sopra il portone. Date invece le chiavi di riserva a qualcuno di cui vi fidate, come un familiare o un vicino. Probabilmente sai già che i germi sono ovunque ed è impossibile per gli esseri umani liberarsene. Queste minuscole creature tengono in forma il nostro sistema immunitario. Diventiamo più forti quando il nostro organismo affronta costantemente i batteri e migliora le sue capacità di protezione. Quindi non preoccuparti di quello che vedrai o sentirai dopo. Benvenuti in uno dei posti preferiti per batteri e microbi, le camere d'albergo. Sì, sembrano così pulite, ma per certi versi sono più pericolose di una discarica dove tutto è lercio ed hai paura di toccare qualsiasi cosa. Ma nelle camere d'albergo è quasi invisibile. I germi ti stanno aspettando. E ce ne sono un sacco! I primi problemi compaiono già nell'ascensore. I pulsanti sul pannello brulicano di batteri. Supponiamo che nessuno li pulisca con un disinfettante. In tal caso, questi pulsanti diventano l'arena in cui i miliardi di microbi si moltiplicano e si divorano a vicenda. Dai un'occhiata a un normale condominio. Ci sono anche gli ascensori. Le stesse persone vivono in questa casa trasmettendo gli stessi germi quando toccano i pulsanti dell'ascensore. Il tuo corpo incontra spesso questi microbi e sviluppa rapidamente la protezione necessaria. Ma persone diverse soggiornano negli hotel. Un ragazzo di qualche paese africano può portare un batterio che sarà pericoloso per una ragazza della fredda Norvegia. Pertanto, dopo aver toccato il pulsante, bisogna lavarsi le mani. L'ascensore apre le sue porte e cammini verso la tua stanza. Attento! C'è un altro punto interessante più avanti. Vedi la maniglia della porta? Questa zona è un altro parco gioco per i germi. Quante persone l'hanno toccata prima di te? Quanto tempo è passato dall'ultima volta che è stata lavata? Sai perché una tale maniglia è più pericolosa di un sedile del water? Perché i microbi si accumulano sulle nostre dita e sui palmi. Quando non li laviamo, trasferiamo un milione di batteri da un luogo all'altro toccando le superfici di diversi oggetti. Quindi il modo migliore è toccare la maniglia della porta con la stessa mano con cui hai premuto il pulsante nell'ascensore. Non appena entri nella stanza, lavati le mani. La buona notizia è che il personale dell'hotel pulisce i bagni molto meglio del resto della stanza. Quindi sei un po' più al sicuro qui. Tuttavia, dai un'occhiata agli angoli del bagno e alle piastrelle. Se vedi dei punti neri da qualche parte, significa che c'è della muffa. Questa cosa può causare reazioni allergiche e irritazione agli occhi. La muffa può essere piuttosto pericolosa, ma il personale dell'hotel di solito la sorveglia da vicino. Quindi è improbabile che ci sia qualcosa di simile nella tua stanza, a meno che non sia un hotel economico. Tu non dormi lì, vero? A proposito, sapevi che la carta igienica in un bagno pubblico contiene più germi del coperchio del water? Sbagli a coprire il sedile con pezzi di quella carta? In primo luogo, molte persone la toccano. Il che significa che ci lasciano dei batteri. In secondo luogo, piccoli schizzi sporchi si accumulano quando qualcuno tira lo sciacquone. I microbi si sentono più a loro agio a vivere su carta morbida che sulla superficie dura della toilette, quindi non metterla sulla seduta. Ma se vedi una copertura di metallo o plastica sul rotolo, sei fortunato perché il rotolo è protetto dai germi. Dopo aver fatto quello che dovevi fare ed esserti lavato accuratamente le mani, hai due opzioni. Pulisci le mani con un tovagliolo di carta o usa un asciugamani elettrico. Non importa cosa scegli, entrambe le varianti hanno molti germi. Ma se usi l'asciugatrice, i batteri moleranno per tutta la stanza. Quindi meglio prendere un asciugamano. Esci dal bagno e ti ritrovi in una zona pericolosa. Non pensare che tutti i germi siano innocui. Alcuni dei batteri più comuni negli hotel causano infezioni intestinali. Se non vuoi trascorrere il resto della tua vacanza o del tuo viaggio di lavoro accanto o sul water, preparati a combattere le colonie di minuscoli parassiti. La prima cosa che devi fare è lavare picchieri e tazze con il sapone. Alcuni viaggiatori portano con sé le proprie tazze, il che è una buona idea. Poi guardati intorno e chiediti cosa le persone toccano di più. Risposta Telecomando della tv, macchina del caffè, frigorifero, maniglie delle porte, l'asciugacapelli e le finestre. Rilassati, non devi fare le pulizie al posto del personale dell'hotel. Basta avere delle salvettine umidificate con un potente disinfettante. Pulisci la superficie di tutti questi oggetti. Forse ti preoccupi in vano e l'hotel è attento alla pulizia delle camere. Oppure puoi dire al direttore che vuoi che la tua stanza venga pulita di nuovo. Quindi hai pulito tutte le superfici e vai a letto. Sfortunatamente non sei l'unico a riposare su quel morbido materasso. Hai un'enorme compagnia di batteri. Certo, lavare le federe e la biancheria da letto distrugge i germi, ma per quanto riguarda il copriletto? Molto probabilmente nessuno lo lava. Rimuovere i germi dal tessuto è difficile, quindi probabilmente dovrai sopportarlo. Ma la cosa che non dovresti accettare sono le cimici dei letti. Se noti delle macchie scure sul tuo materasso, è molto probabile che si tratti dei rifiuti lasciati dalle cimici. Non hai fame, vero? Non voglio rovinare il tuo appetito. Gli insetti possono nascondersi in profondità nel materasso. Possono dormire lì per mesi e poi svegliarsi per soddisfare la loro fame. Mentre stai riposando, escono e ti mordono le gambe. Se noti delle piccole macchie rosse sulla pelle al mattino, allora non mi sbagliavo. I morsi di questi coleotteri non sono pericolosi. Alcune persone possono avere una lieve reazione allergica sotto forma di irritazione della pelle. Ma il problema è che alcune cimici dei letti possono entrare nei tuoi vestiti o cose e poi le porterai a casa. Queste creature si moltiplicano rapidamente. Pertanto, se non vuoi una colonia di insetti pungenti in casa, lava i vestiti, pulisci le valigie e vai sotto la doccia. Ma prima chiedi al direttore dell'hotel di rimborsare i tuoi soldi perché le cibici dei letti sono inaccettabili. A proposito, anche se la stanza è perfettamente pulita, non significa che non ci siano cibici. Forse le hanno portate gli ospiti precedenti. Quindi il tuo letto non ha macchie nere e hai pulito tutte le superfici pericolose. Questo è tutto. Sei al sicuro. Ma prova a camminare sul pavimento indossando pantofole o calzini spessi, poiché anche il pavimento è una fonte di sporcizia. Trascorri diverse notti in hotel e finalmente ritorni in un luogo pulito e sicuro. La tua casa. Sfortunatamente la tua casa può anche avere molti germi che non vedi. Ti piace divertirti con gli amici e giocare ai videogiochi? Ti ricordi quando è stata l'ultima volta che hai pulito il gamepad? Tutti i tuoi amici l'hanno tenuto in mano, il che significa che hai raccolto lì tutti i loro microbi. Il tagliere della tua cucina. Quanto accuratamente lo lavi? Non basta spruzzarlo solo con acqua, soprattutto se tagli carne e verdure. Puoi tagliare un po' di zucca e i suoi germi si attaccheranno alla superficie. Quindi lavi rapidamente la tavola e la rimetti a posto. Ma i germi non sono scomparsi? Sono ancora saldamente attaccati alla superficie, in attesa che tu tagli il pane. Quindi salteranno sul cibo e ti entreranno nello stomaco. Come va quell'appetito? Ne hai ancora? Un altro posto pericoloso è la spugna per i piatti. Anche se usi un buon detersivo, i germi si accumulano ancora. Il modo migliore per sbarazzarsene è cambiare la spugna una volta alla settimana. E ora ecco il paradiso per i batteri. Un luogo con una temperatura fredda ideale e un sacco di cibo, dal fresco al non. È il tuo frigorifero. Lì metti i prodotti che porti dal supermercato. Centinaia di persone potrebbero toccarli con le mani, lasciando milioni di germi. Pertanto non dimenticare di lavare spesso il frigorifero. Inoltre tieni la carne lontana dai prodotti confezionati, perché i germi su una bistecca al sangue si moltiplicano e la rovinano rapidamente. Forse sei troppo preoccupato per la tua salute adesso? Se è così, allora dovresti ricordare le parole dall'inizio del video. Ripeto, probabilmente sai già che le gemme sono ovunque. Aspetta, non è così. Ups, scusa. Se sei un fortunato possessore di un iPhone 12 nuovo di zecca, o hai appena aggiornato il tuo sistema operativo a iOS 14, non aver paura di quello strano puntino verde o arancione che spunta in alto a destra. Il punto verde indica che stai usando la fotocamera, mentre l'arancione indica che stai usando il microfono. Diciamo che hai TikTok in background che potrebbe usare passivamente sia la fotocamera che il microfono. Questi punti ti avviseranno. Ti aiutano a controllare la durata della batteria. Per aumentare la potenza sonora del vostro iPhone, andate su Impostazioni, Musica e trovate l'equalizzatore. Nel menu si chiama EQ. L'opzione Notte fonda aumenterà la potenza dello speaker del 20% circa rispetto al normale. Inoltre è possibile creare una vibrazione personalizzata per tutti i tuoi contatti. Va su Impostazioni, Suono e Feedback e apri le impostazioni della suoneria. Normalmente la vibrazione è impostata di default. Scorrendo in basso, vedrai la sezione per personalizzarla. Scegli quella che preferisci e salvala. Puoi crearne una per ogni contatto della rubrica. Se la vibrazione personalizzata non è sufficiente e tendi sempre a perdere le chiamate della nonna, prova a personalizzare il flash. Usalo come notifica extra per le chiamate in arrivo. Va su Impostazioni generali, scegli la sezione Accessibilità e poi su Udito. Su Contenuti audiovisivi, attiva Flash LED per gli avvisi. Non perderai mai più quella chiamata. Tenendo premuta la barra spaziatrice e scorrendo a destra o a sinistra, otterrai un cursore. Può esserti utile per individuare subito un errore di battitura o correggere qualche parola nelle note, o qualsiasi testo su cui stai lavorando. Se digiti un messaggio molto lungo, ma ti accorgi che forse è meglio non inviarlo, puoi cancellarlo semplicemente scuotendo il cellulare. Ogni volta che hai necessità di selezionare più di un'icona, toccane una e tienila premuta, mentre con un secondo dito seleziona tutte le altre icone che ti servono. Non funzionerà se hai un iPhone 6 o più vecchio. Gli iPhone più recenti hanno una funzione incredibilmente utile quando si deve passare da un'applicazione all'altra. Guarda quella riga in fondo allo schermo. Tieni premuto e scorri a sinistra o a destra, scorrendo tra le app aperte quella che ti serve. Niente più doppio tocco e centro di notifica. Se ti piace addormentarti con la tua musica preferita o con un altro video di YouTube proprio come faccio io, va su Orologio e seleziona Timer. Nel riquadro Allo Stop, scorri verso il basso fino a quando non vedi il pulsante Interrompi riproduzione. Questa funzione spegne tutte le applicazioni multimediali come la musica, le finestre che riproducono suoni, video e persino l'applicazione YouTube. Piuttosto utile se ti sei svegliato alle 3 del mattino per colpa di qualche video random che è stato riprodotto automaticamente. Yeah! Siamo tutti abituati ai messaggi, ma gli iMessage sono divertenti. Premi il pulsante Invia per aggiungere diversi effetti incredibili al tuo messaggio. La sezione ha quattro caratteristiche. Inchiostro magico rende impossibile leggere il messaggio a meno che non lo si gratti via con un dito. Fa scorrere il dito da destra a sinistra e indietro per visualizzarlo. L'effetto delicato fa apparire le lettere davvero minuscole all'inizio, ma poi diventano più grandi. L'effetto pop-up, viceversa, le fa gonfiare all'inizio, in modo da farle apparire molto più grandi, ma le dimensioni tornano alla normalità in pochi secondi. L'effetto impatto parla da solo. Il messaggio sbatte letteralmente sullo schermo. Tocca il pulsante di destra chiamato schermo. È divertente! Per esempio, invia con effetto eco. Lo schermo del tuo amico sarà riempito di fumetti con il testo del tuo messaggio. Scorri a destra per altrettanti effetti molto diversi. Ne troverai sicuramente uno per modificare il testo che stai per inviare. Anche il font dell'iPhone ha dimensioni diverse. Per renderlo più grande o più piccolo, va nella sezione display e luminosità nell'impostazione. Fai tap sulla dimensione del testo e regola come vuoi. Puoi scattare un selfie non solo con il tasto del volume del telefono, ma semplicemente premendo quel tasto sulle cuffie. Questo trucchetto è per i possessori di iPhone, ma funziona anche su molti dispositivi Android. Ricorda che di solito funziona con le cuffie originali. Gli iPhone possono non avere le batterie più durature, ma battono tutti quando si tratta di qualità fotografica. Attivare la griglia nelle impostazioni della fotocamera, andando su Generale e poi Fotocamera, può aiutare a migliorare la composizione della foto. Se ti piace digitare con una mano sola, probabilmente è giunto il momento di impostare la tastiera giusta. Mentre digiti, tieni premuto il tasto a forma di mappamondo. Appariranno tre tastiere. Quella a sinistra viene utilizzata ogni volta che si digita tenendo il telefono nella mano sinistra. Quella al centro è per entrambe le mani, e quella a destra è per digitare solo con la mano destra. Se ti piace scrivere lunghe lettere romantiche nelle note, ma non vuoi che nessuno le legga, imposta una password. Ci sono due modi per farlo, a seconda del modello dell'iPhone. Per l'iPhone 6 bisogna scorrere da destra a sinistra, e appariranno tre icone, lucchetto, cartella e cestino. Usa il cestino se la lettera romantica è brutta, e il lucchetto per proteggerla da occhi indiscreti. Imposta la password, ma non dimenticarla. Non potrai più cancellarla. Se questo procedimento non funziona, toccando e tenendo premuta la nota stessa, comparirà la barra della password nel menu a discesa. Impostala e nessuno saprà delle tue lettere romantiche a Jane che stai scrivendo di notte. I nuovi iPhone supportano la funzione più bella di sempre. Ora puoi fare uno screenshot dell'intera pagina del browser in un unico file. Basta premere il pulsante di aumento del volume e il pulsante di accensione. Se hai bisogno di trovare una combinazione speciale di parole mentre leggi un articolo online, va nella barra di ricerca e digita la parola che ti interessa. Vedrai tre sezioni. Ricerca su Google, segnalibri e storia, e trova nella pagina. Tocca l'ultima. La parola che ti serve sarà evidenziata in giallo, e troverai una speciale barra di navigazione in basso con le frecce su e giù per cercare facilmente la parola chiave. Non dimenticare di aggiornare la RAM dell'iPhone di tanto in tanto. Aiuterai il tuo dispositivo a lavorare meglio e più velocemente. Per fare questo, devi cercare a fondo. Va su Impostazioni, Generali, Accessibilità, Assistive Touch, e Accendi. Premi più, meno, e il pulsante di accensione. Vedrai la barra Power Off. Premi Assistive Touch, tenendo premuto il pulsante Home. La RAM si è aggiornata. Se vedi la notifica, inserisci il codice dopo averlo fatto, significa che hai eseguito tutto correttamente. Assistive Touch può anche aiutarti ad impostare nuove funzioni con semplici tocchi. Va in Impostazioni, Generali, Accessibilità, e nella sezione Assistive Touch, e modifica qualsiasi comando nel menu Azioni personalizzate. Per il doppio tocco, ho scelto lo screenshot, poiché una combinazione di Home più pulsante di accensione sembra un po' scomoda. Per fare uno screenshot, basta toccare due volte il cerchio del menu di accessibilità. Gli utenti iPhone non hanno bisogno di un'applicazione separata per i lettori QR, dato che hanno la funzione integrata. Apri la fotocamera e puntala verso il codice. Vedrai una finestra pop-up sulla parte superiore dello schermo. Toccando la finestra, aprirai direttamente il link collegato al codice QR. Se non funziona, abilita la funzione Scansiona codice QR nelle impostazioni della fotocamera. È possibile impostare qualsiasi canzone desideri per la sveglia. Va su Sveglia e premi Modifica. Imposta l'ora e nella sezione Suono, seleziona Scegli un brano, e scegli una qualsiasi canzone dalla tua libreria. Avvertenza, la tua canzone preferita probabilmente si trasformerà in un incubo dopo averla sentita come sveglia per un paio di mattine. Uno dei problemi più fastidiosi per tutti gli utenti iPhone è quando si esaurisce la memoria. Anche cancellando le foto, non rimane abbastanza spazio. Vai in Impostazioni, Generali, Spazio iPhone e assicurati che le foto cancellate di recente siano veramente cancellate. In caso contrario, cancellale nelle cartelle di memorizzazione. Fa attenzione ai file pesanti contenuti nei tuoi messaggi, limitando il tempo di memorizzazione del messaggio. Nella cronologia dei messaggi, tocca il pulsante Conserva i messaggi. L'impostazione predefinita è per sempre, ma è possibile conservarli per un anno o anche solo per 30 giorni. Se hai molti documenti da firmare, questo trucco può aiutarti a farlo senza nemmeno stamparli o scannerizzarli. Fai uno screenshot del documento che vuoi firmare, poi toccalo per apportare le modifiche. Con il pulsante più nell'angolo in basso a destra, scegli l'opzione Firma ed ecco fatto. Firma il documento con il dito e salva le modifiche premendo il tasto FATTO. E per ora abbiamo fatto anche noi! Lo spirito delle feste arriva con le decorazioni natalizie. Luci scintillanti, ghirlande e palle di neve ne fanno parte. Anche ai nostri amici pelosi piace giocarci, ma sapevi che queste cose celano pericoli nascosti? Diamo un'occhiata più da vicino ai consigli per la sicurezza degli animali domestici, sia durante le feste che in qualsiasi altro periodo dell'anno. Il numero uno sono le ghirlande. Non possiamo vivere senza. Ce ne accorgiamo subito quando addobbiamo l'albero di Natale. Gli animali domestici, soprattutto i gatti, amano queste decorazioni. Se ne mangiano un pezzo, possono avere problemi intestinali. Oltre agli effetti emotivi, le conseguenze possono costare molto anche in termini economici. Un intervento chirurgico per rimuovere un corpo estraneo può costare davvero tanto. Non sottovalutare il fascino di un oggetto luccicante nella stanza e tieni sempre d'occhio gli animali. Il numero due sono le lucine. Una volta terminate le feste, di solito dopo la Befana, le rimettiamo nella scatola. Quando aprirai la scatola l'anno prossimo, sarà difficile districarle. E mentre stai aprendo la scatola, gli animali domestici possono mangiare le luci o prendere una scossa elettrica. Per evitarlo, si possono avvolgere i cavi allentati e appendere le luci in punti non facilmente raggiungibili dai più piccini della casa. Alcune persone fanno collezione di globi di neve. Ricevono queste sfere come souvenir dai luoghi turistici. Altri le tirano fuori da una scatola con le decorazioni in determinati periodi dell'anno. Questi oggetti possono rompersi facilmente. Non chiedermi come faccio a saperlo. Alcune contengono ingredienti pericolosi non solo per gli animali domestici, ma anche per i bambini. Numerose fonti hanno lo stesso avvertimento, tenere gli animali domestici lontani dai globi di neve. Detto questo, il liquido contenuto nelle palle di neve potrebbe non essere solo acqua pura. Spesso contiene il 2% di glicole etilenico e si è scoperto che ha un odore dolce che può attirare i cuccioli. Il numero 4 riguarda gli alberi di Natale e di come si possono adattare agli animali domestici. Secondo i veterinari, gli alberi e le ghirlande artificiali possono essere più sicuri di quelli veri. Questi alberi non portano con sé l'odore dell'esterno e quindi non attirano molto gli animali. In questo caso, l'importante è non acquistarli ricoperti di neve artificiale, perché possono essere dannosi. Se non vuoi acquistare alberi artificiali, puoi attaccare un filo da pesca all'albero e appenderlo al soffitto per stabilizzarlo. Per quanto riguarda l'acqua per l'albero, un cucciolo potrebbe assaggiarla. È meglio non aggiungere aspirina o altro a quest'acqua. Potresti coprire il vaso con un foglio di alluminio per tenere lontani gli animali. Infine, mettere temporaneamente una grande ciotola d'acqua nella stessa stanza dell'albero aiuta. Se l'animale ha sete, può andare alla ciotola invece che al vaso. Inoltre, potresti mettere una barriera davanti all'albero per renderlo meno accessibile. Ah, ma alcuni gatti sono selvaggi. La prendono come una sfida e superano facilmente la maggior parte degli ostacoli. Tuttavia, lo scotch biadesivo può aiutarti. Quando ho parlato di globi di neve, intendevo anche i magneti. Mi chiedo se i magneti possano essere pericolosi per gli animali domestici. Nelle nostre case li usiamo per vari scopi. Per cominciare, mettiamo in mostra le nostre foto o le nostre note sul frigorifero. I nostri amici a quattro zampe possono facilmente arrivarci. Tuttavia, questi magneti da frigo potrebbero non essere così dannosi come i cosiddetti magneti di terre rare. I magneti al neodimio, ad esempio, sono il vero pericolo. Questi sono molto potenti. Se accidentalmente pizzicano le parti del corpo, possono ferirci. Immagina questi magneti come dei guerrieri. Quando si avvicinano troppo l'uno all'altro, possono colpire con una forza straordinaria, che scheggia e frantuma i normali magneti. Non li vorresti vicino agli animali domestici o ai piccoli membri della famiglia. I magneti in terre rare sono normalmente utilizzati in oggetti come dischi rigidi, serrature per porte o cuffie, ma sono anche utilizzati nei giocattoli. Questi magneti non sono particolarmente tossici. Quindi, se il cane ne mangia accidentalmente uno, il magnete può lasciare il suo corpo in modo naturale. Ma cosa succede se mangia due magneti superpotenti? Non voglio entrare nei dettagli di questo scenario. L'intestino va avanti e indietro nell'addome. E se questi magneti si avvicinano troppo l'uno all'altro? A quanto pare, anche le monetine prodotte dopo il 1982 sono pericolose. Contengono alti livelli di zinco. So cosa stai pensando? Lo zinco non è un minerale essenziale per il nostro corpo? Sì, per la crescita, la guarigione delle ferite e altro. Tuttavia, il corpo ha bisogno di una piccola quantità di zinco. Una quantità eccessiva può causare avvelenamento. Lo zinco si trova in molti oggetti metallici, come bulloni, cerniere e gioielli. Se vivi negli Stati Uniti, saprai che i penni coniati dopo il 1982 hanno un nucleo di zinco ricoperto da una placatura di rame. Una delle cause più comuni di avvelenamento da zinco negli animali domestici sono queste monetine. Anche le piante e i mazzi di fiori possono essere pericolosi. Supponiamo che hai un mazzo di tulipani e che il tuo gatto sia così divertente da cercare di spingere il vaso dal tavolo. Non dovresti lasciare che la curiosità prenda il sopravvento sul gatto. Aloe vera, dafne, le dalie, l'elenco è lungo. La morale della storia è che i gattini sono curiosi e non dovrebbero mangiare piante o fiori perché possono essere tossici per il loro corpo. Il prossimo è quello delle batterie. Il materiale acido al loro interno può fuoriuscire in caso di esplosione. Immagina che il cane le mastichi accidentalmente. Il passo successivo sarebbe quello di subire gravi conseguenze e un intervento chirurgico immediato. Quando parlo di batterie mi riferisco anche a oggetti come telecomandi, orologi e apparecchi acustici, anch'essi alimentati da batterie. Il prossimo punto della lista è il cibo. Sì, so quanto può essere difficile a volte mangiare mentre il cane ti guarda. Voglio assaggiarlo anch'io? Dammi un morso, umano, per favore. Lascia che ti spieghi i pericoli, in modo da resistere alla tentazione di condividere il cibo con il tuo amico a quattro zampe. L'avocado è tossico per uccelli e conigli. I semi di mela e le mandorle sono dannosi per i criceti. Un mito è che i conigli mangiano la lattuga. In realtà alcuni tipi di lattuga non dovrebbero essere inclusi nella loro dieta. Ad esempio, la lattuga iceberg contiene lattucario. Può essere dannoso se l'animale ne mangia troppa. Un altro mito è che i gatti dovrebbero bere latte. Non è vero. Il latte di mucca non va bene per i gatti perché la maggior parte di essi è intollerante al lattosio. Anche il cioccolato, l'aglio, l'uva e l'uvetta possono essere pericolosi per gli animali domestici. La tossicità di un prodotto dipende da diversi fattori, come la specie dell'animale e la quantità di prodotto potenzialmente dannoso che l'animale ha mangiato. In fin dei conti, tu conosci il tuo cucciolo meglio di chiunque altro. Probabilmente saprai già quanto tempo impiega a visitare la sua lettiera o che odore ha. Quindi, osserva il comportamento del tuo animale. Ha una diminuzione dell'appetito? È meglio farlo visitare. Quando parlo di animali domestici, penso ad animali come cani, gatti e criceti. Ma alcune persone hanno animali esotici, come orsi, gufi o coccodrilli. La Global Federation of Animal Sanctuaries ritiene che solo negli Stati Uniti 5.000 tigri siano detenute da persone. Questo numero include gli zoo, ma la maggior parte di esse vive presso proprietari privati. Anche i leoni di montagna sono comunemente visti come animali domestici esotici. Forse è per questo che di tanto in tanto ci si imbatte in notizie che ci dicono che qualcosa è andato storto con i proprietari di animali selvatici. Hai un animale domestico? Se sì, come si chiama? Faccelo sapere nei commenti. I furti con scasso sono in aumento nel tuo quartiere, quindi ti chiedi se la tua casa è abbastanza sicura. Non hai un sistema di sorveglianza, quindi ti do un consiglio. Stasera, prima di andare a dormire, metti dell'alluminio sulla maniglia della porta. Così riuscirai a capire se qualcuno tenta di entrare di soppiatto mentre dormi. Ti svegli la mattina dopo e sembra che l'alluminio sia leggermente strappato. Qualcuno è stato qui e sicuramente tornerà. Un'altra opzione è quella di mettere una tazza sulla maniglia della porta. Quando la maniglia gira, la tazza cade. Farà rumore e ti sveglierai e si spera che l'intruso desista dai suoi intenti. Ora ripensi a quel tizio che è passato da te di recente. Ti aveva detto che lavorava alla porta accanto e ti aveva chiesto di usare il bagno. Tu hai detto di no e lì per lì ti sei sentito in colpa per essere stato scortese. Ma in realtà è stata una mossa molto intelligente. Circa il 60% dei furti con scasso negli Stati Uniti sono effettuati da qualcuno che conosci o che hai già incontrato. Quell'operaio, mentre andava in bagno, avrebbe potuto manomettere qualcosa per entrare facilmente in casa tua la prossima volta. Avrebbe potuto controllare se c'era un sistema di sicurezza. Controllare quanto è difficile entrare in casa tua e magari anche scoprire se c'era un bel bottino in casa tua. Finalmente oggi vai in vacanza. Devi far sì che la tua casa sia il più sicura possibile. Una cassetta delle lettere piena è la prima cosa che i ladri verificano quando cercano una casa in cui rubare. Chiedi al tuo vicino di prenderti la posta mentre non ci sei. Una proprietà ben curata è un chiaro segnale del fatto che ci sei sempre. Se hai sempre l'erba e le siepi tagliate, devi fare in modo che se ne occupi qualcuno mentre non ci sei. Se è inverno, anche la neve intatta intorno alla tua casa la renderebbe un ottimo bersaglio. Chiedi al tuo vicino di fare impronte di tanto in tanto. Sarà un ottimo deterrente. Ci sono molti tipi di siepi che possono darti una mano a difendere la tua casa. Tipo gli arbusti con le foglie appuntite, ottimi da piantare nelle tue recinzioni. Così, se qualcuno salta nel tuo giardino e atterra su un bel cespuglio appuntito, griderà immediatamente. In questo modo, i tuoi vicini si accorgeranno dell'intruso. E il fogliame catturerà anche frammenti di vestiti che potrebbero essere usati come prove in seguito. Mentre ti prepari per il tuo viaggio, la settimana prima apri e chiudi le tende in orari casuali. Non hai seguito uno schema chiaro, quindi non importa se sono aperte mentre non ci sei. Nel caso qualcuno stesse controllando casa tua. I ladri trascorrono parecchi giorni a passeggiare e guidare nei quartieri per capire i comportamenti delle persone che vivono in quelle case. Una cosa che non gradiscono è quando c'è una sorveglianza di quartiere. Queste aree cercano di evitarle. Una cosa da organizzare quando torni. Sposta tutti i tuoi dispositivi elettronici costosi lontano dalle finestre. Così non c'è nessuna cosa di valore in bella vista. Mettili in un armadio o in una stanza riparata. Non preoccuparti dei televisori, sono troppo grandi e difficili da spostare. I criminali sono più interessati a dispositivi più piccoli come iPad e console di gioco. Metti gli oggetti costosi di piccole dimensioni, tipo i gioielli, in delle scatole e nascondili in un luogo segreto. Ad esempio la camera dei bambini, insospettabile. Alcuni ladri hanno ammesso di non entrarci mai, perché non c'è niente di valore, solo giocattoli. Scatta foto a tutti i numeri di serie dei tuoi dispositivi elettronici e crea un inventario a fini assicurativi. Il 95% delle frazioni avviene con la forza, quindi è il momento di rafforzare porte e finestre. Puoi rendere l'impresa ancora più difficile con questo trucchetto. Rimuovi tutti gli sgabelli, le sedie, le scale in giardino e mettili in garage, altrimenti potresti facilitargli l'accesso a dei punti che gli permettono un ingresso in casa tua, come le scatole dei condizionatori. Sì, queste sono le loro preferite, sono facili da staccare e gli permettono di entrare in casa, non dargli modo di raggiungerli con degli appoggi. I ladri possono sfondare una porta poco resistente in un minuto. Installa una struttura in metallo anziché in legno per una maggiore resistenza. I cardini e la serratura devono essere abbastanza massicci da resistere ai calci, finché il ladro non si stanca almeno. Quanto ai lucchetti, possono facilmente essere scastinati da ladri esperti. Un semplice blocco di protezione che lo tiene fermo farà in modo che non si muova. I cardini della porta del garage oscillano verso l'esterno, caratteristica che la rende vulnerabile. Si può entrare estraendo i perni dai cardini. Sostituiscili con perni a prova di manomissione, in modo che non si possano rimuovere. Infine, la basculante del garage è uno dei primi ingressi da cui i ladri cercano di accedere. Non ha un lucchetto che la protegga del tutto. Attacca un lucchetto sul chiavistello collegandolo al binario, così la tiene ferma. Sulla porta del garage, invece, fai un foro nel binario appena sopra uno dei rulli e mettici un lucchetto. I ladri hanno paura dei cani, i leali guardiani del nostro territorio. Un sondaggio ha rilevato che nella maggior parte delle case svaliggiate non c'erano cani, perché i ladri non vogliono attirare l'attenzione durante una rapina. Purtroppo tu non hai un cane, però se metti una ciotola fuori dalla porta d'ingresso, li scoraggerai. I ladri sono al passo con la tecnologia. Quattro criminali su cinque utilizzano social come Facebook, Twitter e Google Maps per individuare i loro obiettivi. Questi ladri sono in grado di fare un duplicato delle tue chiavi di casa anche da una foto, ingrandendo e prendendo le misure esatte. Assicurati che la tua rete wireless sia sicura e usa una password più difficile mentre sei fuori casa. Non siamo più solo vulnerabili al furto di oggetti fisici. Dalla tua rete ti possono acquisire dati preziosi come password e codici di accesso. E poi qualcuno potrebbe anche danneggiare i tuoi dispositivi con un malware dannoso. Puoi anche rimuovere completamente l'immagine della tua casa da Google Maps. Digita il tuo indirizzo di casa, trova la street view della tua residenza, premi il pulsante delle opzioni e seleziona segnala un problema. Verrà indirizzata uno schermo con un'immagine della tua casa. Qui potrai mettere un quadrato rosso per coprire la tua proprietà. Richiedi che venga sfocato sotto l'opzione casa mia e inserisci il tuo indirizzo esatto. Ci vorranno solo un paio di giorni per l'elaborazione. Non lasciare la radio accesa mentre sei via non serve. I ladri infatti prendono nota anche di eventuali radio e tv accese. Quando tornano controllano se sono ancora accesi per capire se in casa c'è qualcuno. Un'opzione alternativa per far sembrare che sei in casa è creare una tua traccia audio che riproduca vari rumori della casa durante il giorno. Passi, conversazioni, un cane che abbaia. Anche lasciare le luci accese non è una buona idea. Se c'è qualcuno che spia in giro noterà più facilmente la tua casa, soprattutto di notte. E poi verrai ulteriormente derubato sulla bolletta della luce. Sei quasi pronto per partire per le vacanze e devi portare fuori la spazzatura. Se hai delle scatole grandi, scomponile per farle entrare in un sacchetto. Nascondi qualsiasi indizio di oggetti di valore che hai ricevuto di recente. Ultimo check. Porte e finestre tutte chiuse. Ora puoi finalmente goderti il tuo viaggio. Ma mentre te la spassi nella tua fantastica destinazione, non pubblicare i tuoi scatti. Aspetta di tornare. Se condividi le foto mentre sei via, tutti i preparativi fatti finora saranno inutili. Tutti i criminali della zona sapranno che non sei in casa. Comunque una cosa è certa. Se non hai un moderno sistema di sicurezza, hai il 300% di possibilità in più che la tua casa venga svaliggiata. Quando torni dalle vacanze potresti pensare di installarne uno. Che dici? Chi pensi vincerebbe? Un grizzly affamato o una bacca mature? Una tigre arrabbiata o un bellissimo fiore? Un enorme pitone o una pianta verde? La risposta non è così ovvia. Ora vedremo chi è il vero re della giungla. Ti presento le piante più pericolose sul pianeta. Questa è la cicuta. Cresce in Nord America, nelle zone paludose, in mezzo a prati e campi. Si può trovare anche sulle rive di fiumi e ruscelli. Sembra innocua, ma è una delle piante più velenose degli Stati Uniti. Le tossine della cicuta possono nuocere gravemente a un adulto in 15 minuti, ma soltanto se viene ingoiata. Molte persone la confondono erroneamente con il carciofo, il sedano o l'anice. Nonostante il pericoloso veleno, la cicuta si usa per curare le emicranie e i disturbi intestinali. La geratina altissima cresce nei campi e nei pascoli e provoca tantissimi danni al bestiame. Quando viene masticata, rilascia una tossina assolubile nel grasso. Il veleno non intacca solo l'animale, ma anche il suo latte. I giovani vitelli che bevono il latte possono esserne contaminati e il latte avvelenato può essere pericoloso anche per le persone. Cresce in Nord America e ha uno dei fiori più longevi in autunno. Al giorno d'oggi, negli allevamenti moderni, il veleno di questa pianta non è più tanto pericoloso. Ma nei piccoli allevamenti, la geratina altissima rimane il pericolo maggiore. Tutti conosciamo due tipi di semi. Quelli che fanno crescere buonissime piante da frutto e quelli di fagiolo che Jack ha usato per raggiungere il regno dei giganti. Oltre a questi, ce ne sono alcuni velenosi. Sono i semi di ricino. Essi contengono la tossina più pericolosa al mondo, la ricina. Non appena va in circolo, blocca la produzione di proteine essenziali per la vite. Senza queste proteine, le cellule smettono di funzionare. Più le cellule vengono distrutte, più il corpo soffre. I semi di ricino rilasciano la ricina quando vengono schiacciati. L'ingestione di alcuni semi può provocare disidratazione, debolezza, allucinazioni, convulsioni e altro. Sette semi sono sufficienti a causare gravi danni. Quindi ricorda come sono fatti e non toccarli. Una delle piante più belle al mondo è anche una delle più pericolose. Stiamo parlando dell'oleandro. Ogni parte della pianta è velenosa. Lo stelo, la radice e il fiore. Anche una piccola parte può causare un avvelenamento grave. Non è indispensabile che la pianta finisca nello stomaco per creare disturbi seri. Basta toccarne la linfa perché provochi un'allergia. E non provare a bruciarla perché il fumo causato dalla combustione dell'oleandro ha effetti tossici. E adesso passiamo a una delle piante più pericolose sul pianeta. Una sola puntura potrebbe dolerti per anni o per tutta la vita. La pianta dei suicidi, chiamata anche Gimpi Gimpi, somiglia a una comune pianta di bardane. Non sembra affatto velenosa, ma se ti capita di avvicinartici, ti sentirai mancare il fiato e ti lacrimeranno gli occhi. Le foglie sono ricoperte di migliaia di piccolissimi peletti tossici, così leggeri che possono rimanere nell'aria ed essere trasportati dal vento. Per questo è meglio indossare una maschera antigas per avvicinarsi alla pianta. Se per caso ti capita di toccare la Gimpi Gimpi, sei in guai grossi. La sua puntura è stata paragonata a quella di 30 vespe contemporaneamente. I peli tossici penetrano facilmente sotto la cute e causano irritazione e dolore, ed è molto difficile estrarli. Se provi a usare acqua e sapone, disinfettante o un unguento, vedrai che la situazione peggiorerà. È impossibile toglierli. Rimangono sottopelle, rilasciando tossine e ti fanno impazzire. Non esiste antidoto, perché gli scienziati ancora non conoscono i componenti delle tossine. Si sa che possono resistere a temperature fredde e calde. Quelle sensazioni spiacevoli possono durare per ore, giorni o anche mesi. Chi ha toccato la pianta ha raccontato che il dolore della puntura può tornare anche anni dopo. Visto che è impossibile liberarsi dei peli, l'unica cosa da fare è aspettare che perdano la loro tossicità. E qui si solleva un altro problema. Si può strappare una foglia di gimpi-gimpi con i guanti e portarla in laboratorio, farla seccare e dimenticarsene per anni. Ed eccola davanti a te una foglia appassita, quasi disintegrata. Sembra innocua, ma non lo è. Anche dopo molti anni i peli velenosi rimasti sulla superficie della foglia possono avere effetti tossici. La gimpi-gimpi cresce solo in Australia, ama il sole e le foreste molto fitte. In passato era un vero pericolo per i turisti e i boscaioli. Oggi in tutti i posti in cui cresce ci sono segnali di pericolo. Alle manifestazioni botaniche viene messa in una teca per evitare che la gente la tocchi. Labro può avere semi di diversi colori. Cresce in Africa, Asia, Australia e in alcune regioni dell'Oceano Pacifico. Alcune specie sono state trapiantate in Florida e alle Hawaii. Si può trovare anche lungo i bordi delle strade in città. I semi vengono usati nella bigiotteria e anche per fare giocattoli. Chi indossa braccialetti con questi semi probabilmente non sa che sono tossici. I semi di abro, come quelli di ricino, distruggono le cellule. Curiosamente questi semi non vengono usati solo per creare gioielli, ma anche per curare alcuni disturbi di salute. Questa è l'unica pianta velenosa dell'elenco che sembra velenosa sin dall'aspetto. Probabilmente non la raccoglieresti. Lo stelo rosso assomiglia a un'arteria o a un sistema nervoso ingrandito. E le bacche sono simili a occhi, hanno un aspetto un po' inquietante. La loro struttura interna è sgradevole come quella esterna. L'actea pachipoda, o occhi di bambola, ha una tossina pericolosa. Più la pianta cresce, più diventa velenosa. Le componenti chimiche della pianta hanno un effetto sedativo su muscoli e cuore. Ciò significa che il corpo si rilassa così tanto che smette di funzionare. Avrai probabilmente visto questa pianta dal vivo nei documentari. La dionea, o venere a chiappa mosche, è un raro esemplare di pianta carnivore. Per fortuna non è pericolosa per gli umani quanto lo è per gli insetti. In ogni caso è meglio non metterci il dito dentro. Funziona in questo modo. La pianta apre la bocca. Nel centro si trova un petalo rosso molto profumato. È un'esca. Le mosche e gli scarafaggi lo vedono e ne sono attratti. Entrano nel fiore. La venere non si chiude immediatamente. I minuscoli peli sensibili della pianta contano i movimenti della mosca. Se la mosca fa più di due movimenti in 20 secondi, la pianta chiude la bocca in meno di un secondo. Questo intervallo di tempo serve perché la venere eviti di chiudersi inutilmente se ci atterra qualcosa che non gradisce. A quel punto la mosca è in trappola. Le setole sulle mandibole funzionano come le sbarre di una gabbia. La preda non può scappare. Allora, la venere inietta nella bocca del succo gastrico, che distrugge la mosca. La pianta si riapre tra i 5 e i 12 giorni dopo, pronta per un altro pranzetto. Si nutre di mosche, scarafaggi, ragni e anche piccole rane. Il panace gigante è la più pericolosa tra queste piante. E non solo per una persona, ma per intere foreste e campi. È una pianta invasiva. È come un parassita. Si moltiplica velocemente e distrugge tutte le piante nella zona. Gli insetti non ci trovano nutrimento. È anche problematico distruggerla, perché causa reazioni allergiche alla cute. Cresce velocemente, è immune ai veleni e vive a lungo. Può raggiungere l'altezza di una casa a un piano e ha radici molto profonde. Quando rilascia i semi, il vento li disperde per chilometri. Non si è ancora riusciti a creare un modo per combatterla. Non c'è niente che possa sconfiggere il panace gigante, neanche in natura. O almeno non ancora. La natura e l'evoluzione trovano sempre un equilibrio. Ora, se per qualche motivo dovessi decidere di svegliare o cucolare un panda gigante, basta ricordare che non è affatto una buona idea. Anche i grandi gatti come il leopardo delle nevi sono diffidenti nei confronti del panda. E anche se quelli che si vedono nello zoo potrebbero non essere molto svegli, hanno una mascella molto potente che può causare molto dolore. Il loro enorme pollice opponibile gli consente di avere una buona presa sui propri nemici. La parte più forviante della foca leopardo è la bocca, perché sembra sempre che sorrida. Ma in realtà sono animali piuttosto aggressivi ed efficaci cacciatori. A loro piace giocare al gatto e al topo con i loro pasti, e questo include i pinguini, i pesci, i calamari e anche foche più piccole. Non molto tempo fa una foca leopardo trascinò un biologo marino sott'acqua. Ehi, smettila di giocare col cibo! Il formichiere si nutre di insetti, agrumi, frutta e avocado. E senti questo, non hanno denti, non vedono e non sentono bene. Boh, sembra lo zio Rudy. Non sono aggressivi e stanno lontano dalle persone. Ma se una persona dovesse avvicinarsi troppo, potrebbe rigirarsi e attaccare. Si mettono dritti sulle gambe posteriori, usano le code per tenersi in equilibrio e attaccano con gli artigli che sono abbastanza forti per perire un giaguaro. O un Land Rover I soffici alpaca possono sembrare dei peluche, ma hanno dei modi efficaci per difendersi. Possono sputare fino a 3 metri e, credimi, non vuoi che ti entri negli occhi. Perché contiene acidi provenienti dal suo stomaco ed erba masticata. Possono anche mordere con i loro denti a guzzi, che si trovano nella parte posteriore della bocca. Inoltre, hanno delle morbide dita con cui prenderti a calci. In realtà, non possono ferirti di più rispetto a se litigassi con un bambino, ma è sempre meglio evitare. Ci sono tre cose che fanno arrabbiare il diavolo della Tasmania. Quando c'è un predatore nelle vicinanze, quando sono in competizione per una femmina e quando stanno proteggendo il loro pasto. Beh, anche Bugs Bunny! Ma quello è solo un cartone animato. Di solito si nutrono di insetti, uccelli, rane e pesci e amano trafugare piuttosto che cacciare. Ma se ti dovesse intromettere nel loro territorio, preparati per essere morso! I loro denti sono abbastanza forti da penetrare attraverso le ossa. Gli elefanti sono così intelligenti che comprendono le emozioni degli altri elefanti e cercano persino di aiutare se possono. E possono anche vendicarsi di chi gli ha fatto del male. A volte, gli elefanti bloccano le strade e si presentano nei villaggi di coloro che sono stati cattivi con loro. Gli elefanti maschi diventano particolarmente aggressivi quando combattono per le femmine. E attenzione alle loro grandi zampe! Possono fare grossi danni! Il pesce palla, per proteggersi dai predatori, può gonfiarsi fino a diventare svariate volte più grande. Mio cognato fa lo stesso! Dai, scherzo! Non consiglio a nessun animale di mangiarlo comunque. Sono talmente velenosi da uccidere fino a 30 persone. E non c'è nessun antidoto. Quindi, se sei solo, dovrai invitare un bel gruppo di amici per diffondere il veneno. Quello me lo sono solo inventato. I cigni tendono a vedere gli esseri umani come il più grande pericolo esistente. I cigni maschi diventano particolarmente aggressivi durante la stagione di nidificazione, cioè il periodo che va da aprile a giugno. Quando i canottieri o i pescatori si avvicinano troppo ai nidi, i cigni iniziano a similare e ad agitare le ali. E se non dai retta a questi segni premonitori, il cigno potrebbe provare a capovolgere la tua imbarcazione. I delfini sono l'unica specie sul pianeta, a parte gli esseri umani, che possono uccidere un'altra creatura senza alcuna ragione. A volte, i maschi attaccano le femmine o addirittura i piccoli e non lo fanno per questioni di sopravvivenza. Se un delfino arrabbiato dovesse inseguirti, non avresti alcuna possibilità di scappare. Possono raggiungere i 32 km orari. La velocità massima del nuotatore olimpico Michael Phelps è di soli 10 km orari. Quindi lui di certo non potrà essere di aiuto. I lori lento sono gli unici primati velenosi. Il veleno viene custodito nei gomiti, poi viene trasferito alla bocca durante la toilettatura per proteggere i loro piccoli. Inoltre, sono in grado di scacciare via predatori come pitoni e falchi grazie a degli speciali contrassegni che li fanno sembrare cattivissimi. Se un lori lento dovesse mordere una persona che è finita nel suo territorio o che lo ha il fastidito, avrebbe eruzioni cutanee, shock anafilattico o potrebbe succedere di molto peggio. Nonostante la loro stazza e il corpo goffo, gli ipopotami possono correre molto più velocemente delle persone e hanno denti molto affilati. Se dovessi intralciarli mentre si stanno dirigendo verso una fonte d'acqua, potrebbero diventare molto aggressivi. Prima di attaccare, però, ci sarebbero dei segnali di avvertimento. Se dovessi vedere un ipopotamo che sbadiglia o che emette un suono simile a una risata, beh, significa che sta per attaccare. A me confonderebbe, a te no? Il polipo dagli anelli blu è minuscolo, ma il suo veleno è mille volte più forte del cianuro. Di norma cacciano i gamberetti, i granchi e i piccoli pesci. Se questa creatura si dovesse sentire minacciata, attiverebbe i suoi anelli blu come avvertimento. Ma se non si dovesse prestare attenzione, potrebbe mortere. Magari non noteresti il morso, ma pochi minuti dopo ne sentiresti i primi sintomi, tra cui nausea, intorpidimento e persino la perdita dei sensi e capacità motorie. Quindi fa sempre attenzione. Le lumache cono sono creature molto pericolose. Pungono le loro vittime con un dente che è come un arpione e poi iniettano il loro veleno. Se una piccolina ti dovesse mordere, sentiresti come una puntura d'ape. Ma se ti mordesse una più grande, allora sentiresti intorpidimento, gonfiore, paralisi muscolare, offuscamento della vista e persino problemi respiratori. Le oche del Canada hanno vissuto vicino all'essere umano per anni, ma sono comunque diffidenti se ci avviciniamo troppo alle loro case, soprattutto durante la primavera quando si accoppiano. In questo periodo, i maschi possono inseguire e mordere chiunque sembri una minaccia per le femmine, le uova o i piccoli. Se vuoi evitare di essere attaccato da questo uccello infuriato, la cosa migliore da fare è indietreggiare lentamente. Gli scoiattoli hanno un sacco di nemici, sia in natura che in città, e il loro superpotere contro tutti è la loro velocità e agilità. La maggior parte del tempo sono del tutto innocui, ma possono essere imprevedibili, proprio come qualsiasi animale selvatico. Ogni tanto mordono e, fa attenzione, sono portatori di diverse malattie, tra cui anche la rabbia. È più probabile che attacchino gli animali domestici e i bambini piccoli, ma ci sono stati casi in cui hanno attaccato degli adulti. Quindi, per stare tranquillo, fa camminare davanti a te i bambini e gli animali, così morderanno prima loro. Ma dai, sto scherzando! Se dovessi mai vedere un canguro che si alza dritto sulle gambe posteriori, fa marcia indietro. Questo è il loro modo di avvisarti che ti vedono come una minaccia per le femmine o per il cibo. Sono degli esperti a box, con le loro gambe lunghe e artigli affilati. I canguri saltano in aria per calciare con più forza e possono persino fratturare le ossa. L'ornitorinco non ha denti e si nutre principalmente di insetti e crostacei. È uno dei due mammiferi che depongono le uova. Ma queste strane creature possono farti molto male. L'ornitorinco maschio ha degli speroni taglienti nascosti sui talloni dei piedi posteriori. E negli speroni c'è del veleno che è abbastanza forte per abbattere un cane. I koala ottengono la maggior parte della loro idratazione mangiando le foglie di eucalipto. E si difendono bene grazie ai loro denti aguzzi e gli artigli affilati. Se un koala ti dovesse graffiare, rischieresti di prendere una brutta infezione. I procioni si adattano facilmente a qualsiasi ambiente, incluso il giardino di casa. Raramente attaccano gli esseri umani, ma possono danneggiare la proprietà e farti ammalare. Andranno ovunque per procurarsi del cibo, nella spazzatura e nei lidi degli uccelli. Ed è così che si infettano. E malattie a parte, i procioni possono graffiarti e procurare delle brutte ferite che ci mettono molto tempo a rimarginarsi. Se pensa che stiamo per invadere il suo territorio, il castoro inizierà a schiaffeggiare l'acqua con la sua coda come segno di avvertimento. E se venisse ignorato, allora utilizzerà i suoi denti aguzzi pur di proteggere la sua famiglia. Quindi è meglio lasciarlo stare. C'era anche un vecchio e famoso programma televisivo con un certo beaver, Leave it to Beaver. No, aspetta, in italiano era carissimo Billy. Le lontre passano un sacco del loro tempo nuotando e mangiando sulla loro schiena e non si preoccupano molto di ripulire, lasciando dietro di sé piccoli pezzi di pesce che attraggono diversi insetti portando malattie. E oltre a essere disordinate, hanno anche dei potenti denti che possono essere utilizzati contro chi le disturba. I casuari sono gli uccelli più pericolosi sul pianeta. Possono pesare tanto quanto una persona adulta e hanno delle lunghe e potenti zampe con artigli affilati. Inoltre, possono raggiungere i 48 km orari. Fortunatamente preferiscono evitare qualsiasi scontro diretto. Ma se non vuoi essere vittima delle loro mosse di karate, è meglio mantenere una certa distanza e non provocarli. Hai capito? Bene. Oh, guarda! C'è qualcuno che ti viene incontro. Ma non è solo. È un tuo amico e sta portando a spasso il cane. Che bella novità! Il cucciolo è davvero carino e vorresti accarezzarlo, ma prima di fiondarti su quel simpatico musetto, ascolta un attimo i miei consigli. Intanto chiedi il permesso al padrone, in questo caso al tuo amico. Chissà, magari a questo cucciolo non piace essere accarezzato. Potrebbe avere paura degli estranei o persino innervosirsi. O magari è di cattivo umore oggi. Forse il postino non gli ha dato un biscottino mentre ha consegnato la posta, come fa di solito. La cosa migliore da fare è quindi avvicinarsi con molta prudenza, o meglio ancora, lasciare che sia il cane ad avvicinarsi a te. Vedi come si comporta? Non farti prendere dalla smania di accarezzarlo. Non fare movimenti bruschi e non mostrare paura. Il cane potrebbe spaventarsi a sua volta oppure mettersi sulla difensiva. Non vorrei mica partire col piede sbagliato se vuoi fartelo amico, giusto? Per capire se il cagnolino è interessato a te, fai una cosa. Ignoralo. Suona un po' un controsenso, vero? Ma pensaci un attimo. Sei lì in strada a chiacchierare con il tuo amico e il cane è come se non esistesse. Cosa che il nostro fido tollera ben poco. Quindi per tornare al centro dell'attenzione ti si avvicinerà. A quel punto il più è fatto. Sta a te adesso a decidere come rispondere. Ma ricorda, non guardarlo mai dritto negli occhi. Tra le persone è considerata buona educazione guardare qualcuno negli occhi mentre si parla, giusto? Ma nel mondo dei cani è tutto l'opposto. Il contatto visivo diretto è un segnale di sfida, tanto che se lo fai, il cane potrebbe vederti come un nemico, o quantomeno come un gran maleducato. Ok, sei riuscito a rompere il ghiaccio e ad avvicinarti a questo simpatico cucciolone. Adesso lui ti annuserà. Rilassa la postura, ma lentamente, per non spaventare il tuo nuovo amico. Sempre lentamente allunga la mano. La prima volta, col palmo rivolto verso il basso e il pugno leggermente chiuso non si sa mai. Anche un piccolo morso può far male. Il cane deve sentirsi a suo agio vicino a te. Se continua ad annusarti, tu lascialo fare. Deve studiarti per bene per potersi fidare. Può succedere che il cucciolo dimostri fin troppo entusiasmo cominciando a saltellarti intorno e leccarti la mano. Resta calmo. Se la situazione ti mette a disagio, ti basterà girarti lentamente dalla parte opposta. Meglio ancora se incroci le braccia. Un segnale inequivocabile, che farà subito perdere interesse al cane nei tuoi confronti e lo farà tornare tra le braccia rassicuranti del padrone, che provvederà poi a calmarlo. Se cominci a rivolgere al cane qualche parola, fallo nella sua lingua o non ti capirà. Ok, si scherza. Piuttosto, usa sempre un tono di voce calmo e rassicurante. Ok, adesso la parte migliore. Siete diventati amici e puoi accarezzarlo. Senza esagerare, ovviamente. Fai sempre tutto piano e senza movimenti bruschi. E non carezzarlo sulla testa. Il cane ha bisogno di vederti la mano per stare tranquillo. Come dargli torto, poi? Nemmeno a te farebbe piacere sentirti colpire in testa da una mano invisibile, giusto? Accarezzarli orecchi e collo è la mossa più sicura. I cani adorano anche un bel massaggio sulla schiena. Mentre lo carezzi, fai sempre attenzione al suo comportamento. Si assume una postura leggermente incurvata, agita allegramente la coda e si mette a camminare intorno a te. Buon segno, gli vai a genio! Un segno ancora migliore? Un cane che si abbassa e comincia a distendere le zampe. Significa che è totalmente a suo agio e pronto a giocare con te. Attenzione, invece, ai comportamenti che indicano che il cane, beh, non gradisce la tua compagnia. Se mostra i denti e ti ringhia contro, vuole che resti a debita distanza da lui. Stessa cosa se vedi che tiene la coda dritta, segno di nervosismo. Un altro modo con cui i cani esprimono disagio è sbadigliandosi. Ricorda sempre che anche un cane ha bisogno di spazi personali e devi rispettarli, ovviamente. Di ritorno a casa, ecco il tuo cane sulla soglia ad aspettarti. Felicissimo di rivederti, ti saltella intorno e ti lecca la faccia. Il suo migliore amico è tornato! Per farti voler bene ancora di più, ogni tanto abbassati o sdraiati sul pavimento con lui. E quando lo fai, non fargli mancare attenzione e affetto. I cani lo adorano e ricambieranno il tuo affetto due volte tanto. Magari non ti piace l'idea di avere la faccia impiastricciata della saliva del tuo cane, ma è per una buona causa, giusto? Guarda quanto è felice! Un altro modo per renderlo felice è quello di giocare con lui, magari facendogli rincorrere una pallina da tennis. Ma va bene qualsiasi altra cosa, anche una bottiglietta di plastica. Oppure il grande classico, un bel rametto da fargli riportare mentre siete al parco. Ogni volta che te lo riporterà, si metterà a scodinzolare tutto orgoglioso. Magari sarà lui stesso a portarti un ramo. Non deluderlo e gioca con lui. Continua a lanciarlo, il tuo cane non si stancherà mai di riportartelo e ogni volta più rapidamente. Oh, guarda, ti ha portato anche un rametto extra! Oh, che carino! Divertimento doppio! Nei parchi spesso ci sono anche dei laghetti. Alcuni cani adorano l'acqua. In questo caso non perderà mai l'occasione di fare un bagno. Non importa se sia in un lago oppure al mare. Fa attenzione però! Assicurati che il tuo cane sappia nuotare. Le prime volte, infatti, tuffati anche tu insieme a lui. Se vedi che nuotare non è il suo forte, puoi comprargli un giubbotto salvagente per cani. Abitualo a tenerlo indosso prima di portarlo a divertirsi in acqua. E... ti ricordi quando con i tuoi amici giocavate a nascondino tutto il giorno? Beh, indovina! Anche il tuo cane adora giocare a nascondino. Un gioco molto utile per tenere sempre ben allenato il suo senso dell'olfatto. Come sa bene chiunque abbia mai portato a spasso un cane, gran parte della passeggiata con lui consiste nell'annosare tutto quello che incontra. Nasconditi da qualche parte e chiama il tuo cane, ti troverà subito. Dapprima si guarderà in giro un po' confuso e poi ti troverà e si divertirà un mondo. È molto importante poi farlo interagire anche con altri cani, specialmente quando sono ancora cuccioli. Non tirarlo mai via nel caso incroci altri cani durante le passeggiate, falli giocare invece insieme. La vita sociale è importante sia per noi che per loro. Per un cane conoscere una persona nuova è un evento memorabile. Un tuo amico che ti fa visita un pomeriggio intero, ad esempio, per il tuo cane significa festa! Non trascurarlo, quindi! Ogni tanto invita a casa persone che hanno altri cani, e a fine giornata magari sarà esausto come te, ma senza dubbio sarà anche felicissimo. Il mio è un cane da compagnia, gli piace accoccolarsi addosso a me ogni volta, pure quando ho già il portatile sulle ginocchia. Non che a lui interessi granché il mio lavoro, davanti a quel musetto così carino ogni volta mi arrendo, metto via il computer per qualche minuto e gli do tutte le coccole che merita. Col tuo cane puoi fare tante cose, ad esempio insegnargli dei trucchetti. Sia da cucciolo che da adulto un cane è sempre pronto ad imparare, e per ogni cosa che impara ricordati di premiarlo con qualche delizioso snack. Più saprai tenere entusiasta il tuo cane più lui ti ricambierà, magari facendoti fare un figurone con gli amici grazie a tutte le cose che gli avrà insegnato. Bravo cagnolino!